Vi ricordate il momento in cui noi siamo stati attaccati? Anzi, la zia Catherine è stata attaccata dalla bambina malefica e malvagia. Ebbene, io sono ritornata esattamente a quel punto e dopo averla spostata via, che è successo? Samuele, che hai fatto? E' colpa tua se sto qui da 63 mesi? Mi dispiace Squall, io vorrei che la vostra vita sia felice e bella, però purtroppo poi vi capitano queste rovine e che devo fare io? Non ci posso fare niente. Ciao Scudo! No, la bambina non è stata abbattuta, tre giorni che lavoro fino alle 7 di sera e mi interrottamente. E che cazzo? Ma tu non sei in vacanza? Quando vai in vacanza tu? Scusami! Ci eravamo fermati quindi ripartiamo esattamente da questo momento in cui abbiamo chiuso la malefica bambina all'interno della stanza e mo' adesso finalmente possiamo fare i nostri fatti. Ciao Solari! Mi ricordo la bambina scaraventata. Mo' dobbiamo cercare di non far morire la zia, per favore. Ok? Le colleghe sono in vacanza e io mi prodigo perché non debbano preoccuparsi di niente. Ma che carino! Tu quando vai in vacanza? Scusami. Zia! Aspetta, accendo la luce, zia! Vado in vacanza venerdì, però poi ho un viaggio di lavoro dal 20 al 23. Vabbè, dai, però ho un viaggio di lavoro. Tutto bene, Steriva, tu come stai? Allora, io prima di tutto mi devo cambiare. Poi fino al primo non ci sono per nessuno. Se mi scrivi ti sfanculo. Madonna, ti scriverò tutti i giorni, Samue. Cioè, ti giuro, qualsiasi cosa, proprio tecnica, lavorativa, ti vengo a scrivere tutti i giorni su tutti i social proprio. Vado a prendere l'amuleto, perché noi c'eravamo anche trasformati in berlusconi. E adesso possiamo finalmente andare a parlare con la nostra bella zia. Andiamo a vedere. Zia! Io mi devo anche curare in tutto questo, eh? Zia! Oh, zia! Che sta succedendo a Stephanie ed Ashley? Zia, che è una età? Cosa succede qui? Dimmelo, zia Catherine! La maledizione sta causando tutto questo. La maledizione! Che qua è la maledizione? Ciao, chi sono? E che bello, Glock Tower, sì, sì. Si lavora fino al 13, porca putain! Dagli, tenete duro, amici, tenetevelo in mano, che fra poco vi arrivano le vacanze. Sì, zia, ma dimmi di più. Siamo segnati! La maledizione dei Maxwell ci ammazzerà tutti! Quindi è la maledizione del primo. Non trovo la pentola quella profonda, hai l'idea di dove sia? Ma le stelle come... Scusami! Mani bene in vista, e daglie, un po' le mani nelle mutande. Scendiamo un po' il ventilatore, va? Ah, questo riscaldamento col gas funziona ancora? Zia, hai bisogno del gas? Vabbè, me lo prendo io, zia! Ti serve? Hai bisogno, zia! Io intanto salvo. Aspetta, prima che... Fammi guarda prima nel cassetto qua. Niente fele, devo scrivere la desi. Ragazzi, siamo tutti sulla stessa barchetta. Quello che vi posso dire, se vi può far piacere, è che tanto, o il minimo che posso fare, è farvi compagnia. Perché io, vacanze, fino a quando non parto per Milano-Maritti, ma lì non vado da nessuna parte. Fino a quando non parto per Disneyland, non vado da nessuna parte. Il gas fa sempre comodo, ma credo di sì, dai! Quindi, mutande bene in vista, allora. Fatemi vedere il vostro pacco. No, dai! Senta, io devo andare a parlare con la bambina. La bambina, stanno a scuola o no hai bambini? Devo andare a riaprire a questa squinzia. Bimba! Cara la mia bimba! Vado avanti. Siamo tutti sulle tue spalle, mi raccomando. Eh, ragazzi, lo so, io però sto... Giuro che mo' provo a non morire. Succeso che maggiapice! Bambina? Ragazzi, non c'è più. Vedete? Tutto a posto. Un telecomando. Una lettera. Mi pare se serve. Ok. Dal signor Alan Hale. È da mio padre. È di sedici anni fa. Caspita. Ma la bambina ha paura di noi. La bambina non so infatti dove sia finita. La statua che ho inviato è dei Maxwell, della famiglia Maxwell. Ma sarà sicuramente solo una statua. Non ha niente a che fare con la magia dei Maxwell. Non c'è niente di maledetto. Quindi vi regalo questa statua. Ma che mio padre è uno stronzo, scusami. Io parto il giorno che lei torna, 19, che probabilmente fino al 26 non riuscirò a vederla. E dai, però almeno parti. Fai di cose belle. Ma mica la statua nella stanza di Stefani? Cioè mio padre è un mona, letteralmente. Quindi che cosa ha fatto? Ha regalato a questa povera famiglia indifesa una statua maledetta? Ma seriamente ha regalato una statua maledetta a questa povera famiglia indifesa? Facendo impossessare la bambina. Apriamo tutto. Metti mai. Oh, grazie al cielo. Almeno sono curata. Ok. Vediamo un po' che cosa posso toccare più. Altro? Il letto? Volevano solo essere una famiglia felice. Chissà dove è andato il zio Philip. Perché pensi a zio Philip guardando il letto, Alissa? Che problemi hai? La mia faccia è cambiata. Mi chiedo se Bates sia diventato quello dominante. Eh, vabbè, mo, dominante. Cioè suo padre ha casato un bordello immenso. Sì, c'è il padre che ha mandato una statua maledetta. Del primo clock tower. L'ha mandata questa povera... Aaaaaaah! Questo mi ha aspettato pure la porta però, eh. Bello, bravo. Bravissimo. Complimenti. Vabbè, e io suppongo di dover andare su. Quindi. Quando si dice educato. Sì. Veramente educato. Carino. Meno male che è un bravo. Sì, meno male che è un pirla, veramente. Perché se no... Ciao. Dobbiamo andare a vedere se... La statua è lì. Pure loro ad accettarla se sapevano della maledizione. Ma io penso che loro non lo sapessero della maledizione. Cioè io penso che tipo... Il fratello di... Di zio Peter. Gli ha mandato sta cosa. Detto guarda, sono stata in vacanza a Ischia. Ho trovato sto... Sto souvenir. Tiè, pigliatelle. Non ti preoccupare, non è maledetta. E loro si sono fidati. Cretini. La bambina ci avrà giocato e si sarà... Ah, cazzo, non c'è più. È andata via! La statua! Dove è andata? Vedi? La bambina ci avrà giocato e... L'ha aspettata fuori dalla porta senza disturbare. Sì, è stato molto carino. Devo essere sincera. Però, va bene. E quindi vado via. No, aspetta. Prima di andare via... Devo mettere questo... Su. Giù. Destra. Devo portare l'amuleto. Tao Teiko! Mai comprare le statue a Ischia. Ma loro si sono fidati. Cioè, è stupido mio padre che ha dato loro una statua maledetta. Perché poi... Cioè, io lo scrivi anche. Fai, no, no, no. Ma non ti preoccupare. Questa non è maledetta. Fidati. È tutta una diceria. Ma... E adesso la bambina è diventata impossessata. Cioè, questa è mia cugina. La creatura è mia cugina. È follia. Dovrò ammazzarla. Ok. Così almeno adesso, alla prossima occasione, mi trasformo in un orso peloso. Andiamo giù. È io cugina! Sì! Ciao, Coren! Povera io cugina impossessata. Perché farsi domande se ti regalano qualcosa e ti dicono, tranquillo, non è maledetta. Sì, ma non è che ti regalano un milione di euro, che tu dici, va bene, è un milione di euro, io non mi faccio domande. No! Ti regalano una statua! Mi farei due domande. Mi farei due domande. E non è ancora morto. Non è ancora morto. Mi avrei regalato a qualcuno che mi sta sulle balle. Ma forse il mio padre odiava zio Philip. Potrebbe essere... Potrebbe essere... Comincio a credere di sì. Ok, non c'è il samurai. No, perché se c'era il samurai con zio Philip che è venuto di qua, veramente gli spaccavo la capa e dicevo, questo secondo me sa qualcosa che non so. Va bene. Andiamo a vedere. Mi ha dato la chiave. Come non è importante. Ma no, che non è... Zia, scusa, mi ho sbagliato stanza. Santo cielo, ma questa sta ancora qua. Ma rimarrà lì per il resto della sua vita. Scusa, zia, mi raccomando, prendi due Xanax, zia, che quello passa. Sta meditando. Ma sì, lasciamola meditare. E mo' ci troviamo a stare. Lo sapevo! Oh, le visioni! Dai, muoviti, 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 Alissa! 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 Alissa, brava! Oh! Ciao, Kratos! Come ha fatto zio Philip ad entrare di qua e a non avere dei problemi di samurai? Qualcuno me lo può dire? Cioè... Ma ancora qua sto samurai? Quanto è lento! Sta facendo il giro! Sta facendo il giro in tondo. Pronto? Bello studio. Devo scendere in cantina, suppongo. Ciao, tarallo! Buon pomerino sera! Accendiamo la luce. Che qui non si sa mai. C'è della roba sul tavolo. Ok. Una cristalliera di ceneriera. C'è una ceneriera di cristallo. Ma che sto a dire pure io? Salvi! Cazzo, è vero ragazzi? Non salvo dal 30... Crick, crick. Allora, salvo su qua. No, su qua. Ok. Per fortuna che lento fosse veloce il gameplay sarebbe infinito. Anche questo è vero. Ma che sta tenendo una gallina in mano? Una rana? Zio? Questa è la statua. Tutta iniziata da quando Stephanie l'ha trovata nell'armadio. Quella statua. La maledizione è vera. Questo è il motivo per cui sei posseduta. Come io? Io non sono... Tua figlia è posseduta, zio. Sono stata maledetta anch'io? Lo sai, è vero. Tutti quelli coinvolti con la famiglia di Maxwell. Zio! 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 Ma questo è un coglione! Ciao, Mitur! Ho sentito Pistachio. Ma questo è un coglione. Ma questo è scemo. Ma io non ci parlo mai più. Ma mi vuole ammazzare. Ma sta inaspettata violenza. Ma che paura. Mi sono cagata. Andiamo a parenti serpelle. Lei che ci va tranquilla camminando. E che deve fare? Si fidava dello zio. Mo' ci troviamo la nota a statua. Ah, assa fa. Finalmente non c'è più nessuno. Vabbè. Io devo andarmi a prendere la statua. C'era il 2x1 sulle maledizioni. Che fai? Te ne privi? Cioè, ho capito. Ma sono maledetta io e lui mi vuole ammazzare. Una volta che riuscite a scappare dallo zio sul punto d'infarto. E vabbè, ho capito. Però poi non lo so. Zio? Zio? Oh no, ragazzi. L'ho maledetto. Vedete? Questo è il motivo per cui non dovete toccarmi. Va bene? Questo è il motivo per cui non mi dovete toccare. Ma l'ho spinto solo via. Zio? Magari sta dormendo. Bruciala la statua! Bruciala! Uncle Philip. Zio Philip! La statua! Bruciala! Presto! Zio? No, raga, sta dormendo. Vabbò, bruciamo sta statua. Sta dormendo, raga. Sta dormendo. È tutto a posto. Burn the statue? Bruciare la statua. Ma sì, bruciamola sta statua. Zio, tutto a posto? Siamo sicuri? Ma io non lo so. Non puro nulla contro le maledizioni casertane. Pustaccio! Ma dov'è sto pistaccio? Scusami! Non è vero! Allora, boh, dovrei capire. Andiamo. Ah, devo andarmi a prendere l'amulezio. È vero. Perché noi abbiamo lasciato l'amulezio sopra. Quindi torniamo a prenderci l'amulezio. E poi dobbiamo bruciare la statua, suppongo. Quindi andiamo a bruciare la statua. Quando dice pistaccio, sembra che dice pistaccio. Voi sentite storto, questo pistacchio maledetto. Ok, non c'è nemmeno più il samuracchio. Meglio. Zero samuracchio, zero spauracchio. Io butterei la statua dentro al forno. Non è troppo potente, raga. Ora ci troviamo il samurai. Guardalo, guardalo, guardalo come me lo sento. Lo sapevo! Lo sapevo! E io mo' come passo? Che devo andare di là. Devo andarmi a recuperare. Ma scusami, ma io non lo potevo mettere d'altrove, questo spigolo. Gli amo, come faccio? Che palle. Citofonatissimo, io lo sapevo che era lì. Mi chiedo, come facevamo a giocare questi giuglian? Non ne ho idea. Fatti seguire. Ma quello non mi segue giù. Cioè non mi segue giù lui. Mi segue solo su. Accendiamo la luce, che io in questa stanza non ho fatto niente. Ah, ma qui c'è un cassetto chiuso. Io però non ho l'apricassetto. Il telefono! Vado subito a rispondere. Corro. Andiamo via. Arrivo! Eccomi! 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 Sì? Oh, la linea è morta. È morta la linea. Attaccano sempre, però ogni volta non è possibile. Potevano pure rompere al posto di bruciarla. Magari se la rompi... Ciao, Ambra! Buon pomeriggio! Magari se la rompi non è la stessa cosa. Non ha premuto uno, vero? Ah, grazie a Gesù. Grazie a Gesù. Ciao, Ibi! Buon pomeriggio! È che non prende... Sì, è sempre la dimma, raga. Quelli mi vogliono fare le proposte di quelle spavalde. Devo andarmi a recuperare solo l'amuleto. Poi ce ne andiamo via. Ve lo giuro. Maronna mia, meno male. Ho detto... Un modo che me la trovo in questa stanza. Però fortunatamente non c'era. Ok. Prendiamoci l'amuleto. Yes! Let's go! Molto lentamente, Alyssa. Che non sia mai... Che non ci prendiamo questo amuleto. Veramente piano, piano, piano. Piano a mamma. Proprio tranquilla. Bella ciccina. Corri di qua. Dai. Lei poi si ferma davanti alle porte. Tanto c'è quando esci. Non c'è. Non c'è. Lo sapevo. Io conosco le mie statue di samurai. Ponderando ogni azione. Sì, lei è riflessiva. Non c'è nemmeno qui. Non mi piace questo fatto che lui non ci sia, però. Questo ce lo troviamo qua. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Uh! Non ci è! Non ci è, amici! Siamo fortissimi! Allora, prendiamo sta statua subito. E nel cesso. Subito. Gli do fuoco. Me la mangio proprio. Ok. Oh no! Mia cugina! Stefani! Stefani! Devo bruciare la statua! Stefani! Stai ferma! Putta sta statua! Alissa! Alissa! Fessi sorda! La benzina! Alissa! La benzina! Ali, muoviti! Oh no! I'm going to kill you! Ma vaffanculo! Ah! Give up! Eh! Eh! Hey, you little shit! What good is it? Scronzetta! Moda brucia! That's the way I do it. È così che si fa dalle mie parti. Ma... Ma siamo scemi? Ho perso pure il talismano. Ma l'abbiamo accoltellata! Amuleto, proteggimi! Ah! È ancora viva! Ragazzi, diamo fuoco a tutto! Via! Vai, Alissa! Yes! È morta una bambina! Però non fa niente! Sorry! Stefani, mi dispiace! Niente, ragazzi, è morta una bambina. Però... Avevamo una spiegazione plausibile. Va bene? Abbiamo una spiegazione plausibile. Ci sta! Abbiamo dato fuoco per ovvi motivi. Forse ce l'abbiamo fatta. Siamo vivi! Abbiamo superato il primo capitolo. Cosa che non abbiamo fatto ieri. Dicci la spiegazione. È impossessata! Che vuoi fa? Amici, abbiamo superato il primo capitolo. Ehi, stai bene? Sono Alex Corri, della polizia. Non devi parlare. Oh no. Questo è l'ospedale. Ho chiamato... Mi hanno chiamato dalle tette. Quando sono entrato, ho visto a te una ragazzina che stavate per terra. Vi ha portato qua. Stephanie! Stephanie! Come sta? Come sta? Eh, ha avuto un sacco di ferrite. Però sta bene, non morirà. Ah, ma quindi è viva! Ma quindi è viva! Raga, Tom Cruise, è vero! What was that? Minchia! Ma cosa era? Chi è che si è sentito male? Il gatto, sì, sì, sì. Chi è che si è sentito male? Ha cagato! I miei sbatigli! Raaah! Ma è vero, io non urlo così. Io al massimo urlo così. Raaah! Ok, amici, siamo nel secondo capitolo. Io salvo qui. Via! Allora, torniamo al gioco. Qualcuno ha urlato, ma tanto a noi non serve sapere chi è. Giusto? Non ci serve mica. Sembra tutto normale. Beh, mi fa piacere. Dopo che ho sentito sempre un urlare. Sono girati tutti, mi hanno guardato male. Vabbè, è normale. Questo lo campionerei, lo metterò in un videogioco di Hitch. Secondo me si potrebbe fare. Vabbè, dobbiamo uscire per forza. Usciamo per forza. Va bene. Andiamo via. Ciao, Yoru! No, aspetta, ma forse dobbiamo entrare dentro. Benvenute! Perché dice che c'è qualcosa. Se a lei sembra tutto normale... Allora è venuto tranquillo, raga. Alissa ha detto che è tutto normale. Quindi ho una chiave del drawers. Ok. Quanto lenta lei. Ragazzi, ma si è appena ripresa da una bruciatura. Mi sembra normale, no? Cioè... Ok. Andiamo via. C'è un'altra stanza. Vediamo se è di qui il poliziotto. Ma poi in questo ospedale non ci lavora nessuno. Cioè, ma è impossibile. Prima era un vulmine. Maronna, ragazzi. Facciamo la luce. Ok. C'è qualcosa qui? Tipo in questo armadietto. Non ci sta nessun paziente. Tutto sembra normale qui. È tutto normale. Va bene, ragazzi. Ma se è normale. È tutto normale qui. Forse è qui dentro? In questo altro armadietto? Sì? No. Niente. E a gusto sono tutti in ferie anche i pazienti. Va bene. Bello. Me lo immagino così un ospedale del futuro. Stanno bene o sono tutti maledetti? Sì, ma se sono maledetti non dovrebbero essere in giro? Veramente allo stesso livello di intelligenza dei personaggi di Scream Queen. Cos'è questa mano qui sopra? È una sala tegliere questa? Però è chiusa. Eh, vabbè. Allora, andiamo avanti. Posso prendere l'ascensore? Ma qui c'è l'uscita. Perché non uscire? Eh, eh, eh. Vedi? Perché non uscire? Chi è? Sì? 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 Mia mamma è nulla! Ma sono zombie! Ma come sono zombie! Ma seriamente faccia... Dove cacchio son finita? Oh, caspita. Ragazzi, la sedia! È la mia unica possibilità! Vai, wrestling! Dottore! Ho preso le pillole! Mi lasci! Ma si è sciolto! Ciao, Fiorella! Ma si è sciolto il dottore! Vabbè, dai! Aspetta, dove sono... Ragazzi, dove venivo? Cristiano Malgioio! La sedia con l'ascido è stato assorbito dal pavimento! Come abbiamo fatto? Bella! Oh, una sediata! È stato risucchiato dal pavimento! Io non ho capito come sia successo, però è successo, ragazzi. Abbiamo assistito a un miracolo della scienza. A quanto pare i dottori possono essere risucchiati, neanche sia dei Undertaker, ma seriamente. Cos'è questo? Sono andati tutti in panico? Eh, a differenza tu, Alissa, che invece mi sembri... Oddio! La signora! Era un attimo a parlare con il vicino che mi ha bussato per parlarmi di altre cose e mi ha detto che si era preoccupato per le urla. No, l'iron, mi dispiace. Parlerò a voce più bassa, lo giuro. Oh no, l'infermiera! Sono tutti morti. Sì, sono anche tutti verdi, Alissa. Guardiamoci in gi... Io lo sapevo! Lo sapevo! Io lo sapevo! Brava, mi raccomando. Cosa sta succedendo qui? Ma con quanta calma! Ciao, Tullio! Cioè, con quanta calma! George Maxwell? Cos'è quella? Una targhetta? È una roba dei morti? Mannaggia che non riesco a toccare i libri. Ma io a questa la posso ritoccare... No, io a questa la ritocco, amore. Verde bisello, sinonimo di salute. Sì, cioè, sono tutti morti qui, ma non è che sono tutti morti, sono tutti verdi, tesoro mio. Comincerei a preoccuparmi del fatto che sono tutti verdi. È un po' più preoccupante di sono tutti morti, perché tutti morti... Magari è arrivato, non lo so, un virus letale e li ha ammazzati tu. Il bagno! Ragazzi... Ho di nuovo il panico nei miei calzini. Prendi il caffè. Il caffè è un'ottima cosa. Signora! Le faccio una bella tazzina di caffè. A Napoli! Sciolto anche questo. Ipi! Ma grazie mille per i 2600 beats! Ma sei pazzo! Mua! Grazie mille! Mua! E buon lavoro! Ma sei pazzo! Scomparsa pure col jingle! No, fatemi controllare, che qui dobbiamo lavorare! Fermi! C'è tanto da fare. Pronto? Vediamo? È morto, anche questo. Va bene, te so. Tanto comunque, non è che avevamo problemi. È tutto normale qui. Ok, quindi questi sono tutti i posti in cui posso mettere il pirulo di Bates. Ok, la chiamavano signore... Cosa spegni la luce, Alissa? Accendi questa luce, ti prego. Che qui siamo invasi dagli zombie. Ritocca l'infermiera. Ok. Io non la volevo più toccare. Cioè, avevo paura. Aspetta, ritorniamo dall'infermiera, raga. Dobbiamo ritoccare l'infermiera. Lascierei perdere e vedrei se quei computer hanno il solitario. Ma siamo invasi dagli zombie e tu vuoi giocare al solitario? Ma io non lo so. Allora, torniamo indietro. Di qua. Vediamo... Era questa la stanza dell'infermiera, spero di sì. Signora mia! Signora mia! Credo che non sia più toccabile. Mo dove vado? Orchia troia! Signora! Più tardi! Ciao Nicoletta! Credo a settembre. Più tardi signora, mo non c'ho tempo. Arrivederci! Vado nel bagno delle donne, scusi, è occupato. Ti prego, dai. Dimmi che c'è un posto in cui nascondersi! Ti prego! Ok, è occupato. No, non è occupato. La scopa. Signora? Bravi ragazzi, ormai rispondete voi al posto mio. Io sto accoppando qui intanto, mezzo ospedale, e voi rispondete al posto mio. Aspetta che a me lo riscriva magari. Nel caso vorriete rispondere di nuovo. Come l'ha tirata giù? Sì, ormai le sto menando veramente con la cattiveria io, eh. Cioè, io ormai sono diventata cattivissima, qua meno. Sì, ma adesso qua, cioè, cosa devo fare? Nel senso, l'infermiera non infermiera più. È stata disinfermierizzata. Everything is normal. Sì, va bene. Tutto normale, la zia. Però abbiamo tutto, proprio tutto normale. Tutto, tutto normale. Poi piangiamo che non ci sono abbastanza infermieri in Italia, se la dottoressa li fa fuori tutti. Ho capito, ma sono zoo. A pistol! Perfetto. È la Meloni che fa. Silvia, scelgo te. No, che mo' stiamo andando avanti. Tutto a posto. My past. Ah! My cursed past. Il mio passato è maledetto. Lavalo via, per favore. Chi? Sì, ma mi hai spento la luce. Ok, vado a ricontrollare l'infermiera. Madonna, Silvia, spero di non aver fatto una cagata. Ricordatemi di salvare ogni volta. Allora, l'infermiera era di qua. Quindi ritorniamo indietro, indietro, indietro. Dan, qui! Mo' questa donna chi è? Jennifer. Quella del primo. Che dice che c'ha l'oscuro passato da lavare via. E se fosse il fermarsi l'infermiera stessa? No, ti prego, dimmi che stai morta. Dimmi che sei morta, ti prego. Spero di trovare un cadavere qui dentro. No! Ah, però c'è la chiave. Yes! Yes! Tutto a posto. Siamo salvi. Siamo salvi. Salvo, salvo, salvo. Subito. Tocca trovare un'altra sedia. No, 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 no. Andiamo via, non vi preoccupate. Ritorniamo. Oh, cazzo! Cosa ho toccato? Eh, ho toccato ragazzi, mi sono toccate le palle. Troppo tardi. Ormai ho le palle toccate. Ho le palle tutte toccate. Niente, finita. Chissà dove... Che cosa ho fatto? Ma forse ci siamo ancora? Ho perso il mio... Ho perso le parole. Eppure ce le avevo qua un attimo fa... Non entrare! Ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Credo. Credo, eh. Questa è la stanza di prima, dove abbiamo parlato con la signora. Ciao, Daniela! Buon pomeriggio! Andiamo a controllare. Ok, questa è la prossima. Ma quanto è grande questo ospedale? Capisco che è un ospedale. Per carità, gli ospedali sono grandi di per sé. Ciao, Xeridian! Però quanto può essere grande uno ospedale? Eh, loro! Pure i pazienti, mo! Ma che spaccim! Sì? Ha bisogno? Signore, 25 grammi di X-Petatrin! Per favore! Non si entra nel bagno delle donne! Impossibile! Impossibile entrare nel bagno delle donne! Signore, non puoi entrare! Non puoi entrare, no? Signore, venga a prendersi i suoi 35 milligrammi di Xetanort! Venga! Eh! Minchia! Fortissimo comunque! Dove ormai altro che baffi l'ammazza vampiri? Noi bonchiamo con cattive... Uno ce n'è! Ma non è vero! Ci sono bagni uomini e bagni donne! Sono un separé! La scopa che tutto abbatte e distrò! Io faccio questo proprio! Faccio solo questo! Ok, il signore non c'è più! Accendiamo la luce! Che già vedo un bel lavandino! Eccolo qua! Sangue! Va, zero cazzi! Va bene! Zero sa... Zero cazzi! Fax given zero! Avriamo! Questo tradizio è che non ha giocato Alissa! E' una tempale estra e ha imparato a combattere! Effettivamente, guarda, non lo so perché ieri era un imbecille totale! Perché sento il cuore che mi batte? Ieri era un imbecille totale! Ho un hint! Vediamo l'int! Yes! Se non vedi gli eventi nel Noisy Monster Cage non riuscirai a scappare dall'ospedale! Ma questi indizi sono veramente inutili! La morte l'ha fatta palestrata! Ma il poliziotto che fine ha fatto? Bra! Ioru! Esatto! E tutto questo! Figurati! Io mi ero dimenticata anche del poliziotto! Cioè, il poliziotto che fine ha fatto? Sarà morto! E' imparato tutto dentro Matrix! Mannaggia che stavo per toccare la cosa sbagliata! Chissà che fine ha fatto pure quell'altro! Allora, mo' dobbiamo capire però... Dobbiamo capire però dove andare! Perché immagino che qui non si possa andare! Sì, è una escita! E' chiusa! E' va bene! Senti, se chiamiamo il centralino qui... E' probabilmente morto! Vabbè, ho capito, ma probabilmente... Almeno provaci, figlia mia! Cioè, lei manco ci prova ormai! Lei è andata direttamente... Senti, chiamo l'ascensore! Ma sì! Tocco! Massi, funziona! Funziona! Dimenticato insieme alla ragazza della chiesa di Terminal 81! Basta con quel gioco, maledetto! Non mi dovete mai più parlare di quel gioco! Andiamo a vedere sopra! Ma io che parlo a fare! Ma io che cazzo parlo a fare! Ali, cerchiamo di trovare una scappatoia! La porta è chiusa e l'ha chiusa a geppetto! Signore, arrivederci! Scusi, eh! Che fa? Prende... Prende anche lei? Prende? Arrivederci! Non prende, ragazzi! Ragazzi, non prende! Gentile, gentile, gentile! Tutti i mostri educati! Gentile, ci ha aspettato! Ha fatto... Perché sento ancora la musica? Ma prende l'ascensore! Ti prego! Ma prende l'ascensore, scusami! La sedia non ce l'ho più! Ragazzi, non ho più la sedia! Ti prego! Visto che ho preso il prossimo! Ma direi... The bathrooms! Eh, raga, ma il bagno è di là! Dov'è? Oh, Christian! Ti prego! C'ho la sala caffettiera! Sono molto più intelligente di quelli residenti! Ti prego! Ma è bellissima! Ma ha chiuso la porta! E io come scappo da questo? È surreale! Ma guarda che i zombie non sono mica stupidi, eh! Sono morti! Ma mica stupidi! Maronna mia, ragazzi! Siamo più morti che risorti, noi invece! Ti prego! Non ti puoi chiudere nell'armadietto! L'armadietto! L'armadietto! Chiuditi nell'armadietto! Vai, vai, vai! Bravissima! Bravissima! Ecco! Signorina! Sono venuta per il controllo alla sottozetta! Signorina! Si faccia fare la visita vaginale! No, grazie! No, grazie! I zombie sono morti! Mica stupidi! Con quanta prepotenza ha aperto la porta! Vabbè, ma lui è medico? Può! Che faccino pieno di salute! Dovrebbe farsi curare! Prende l'ascensore ma non vede... Come minore? Ma nanna! Aaaaaah! Ma dai, ma c'è un paziente! Ho capito! Ma io non è che posso scappare da tutto l'ospedale! Scusa! Ma non è che posso scappare da tutto l'ospedale qua! E sai che cosa faccio? Fanculo! Me ne vado su! Non ha tipo 16 anni? Ma sarà maggiore! A parte il fatto che lui è medico! Fa il ginecologo! Ciao, rullo! Buon pomeriggio! Prenda la scopa del potere! Non esciamo di qui, per favore! Chissà se anche il paziente prende l'ascensore! Sarebbe da testare! Ragazzi, sento la musica! Penso proprio che prenda l'ascensore! Ti prego, dimmi che è aperta! Ti prego, ti prego! Qualsiasi cosa! Qualsiasi! Ti prego! Ma è mai possibile che non c'è niente per combattere? Aaaaaah! Eh, mo' che faccio? Ma attacco! Capo! No! Non mi avrai! Non c'è qualcosa! Urla e lui scappa! Ma non scappa! Devi ritornare in bagno! Quale bagno? Ma la luce è accesa! Sì, è accesa! Sta cesso! Non tiene niente da trovare! Ja, Alissa! Ti prego! Oh! Amici! Siamo morti di nonna! Signor zombie! La prego! Non mi impali! La spingo via! Stiamo ballando la mazzurca! Io qui! Eh sì! Vabbè! Bravissimi! Bravissimi! Vai via, mamma! Vai! Quello della scopa! Ok! Let's go! Ti prego! Scendi giù intanto! Sì sì sì! Mo scendo! Scendo! Queste sono molestie belle e buone! Allora spegni giù 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 giù! Ok! Salve signori ci vediamo al prossimo! E io mo dove mi... Allora, vabbè bagno sinistra adesso, sinistra! Esci! Alissa! Questa ci rimane qua! Qualcuno chiami la polizia! Beh, era esattamente qui dentro la polizia! Che fa? Scende? Sì, ma lui saliva! Lui saliva! Lasciatelo stare! Non vi preoccupate! Ti prego dimmi che questo era il bagno sissis! Vai! Go! Ok, ci siamo! La polizia è morta! E ho capito! Se la polizia è morta non c'è più niente da fare! Vai! Per la terza volta! Con il sacro potere della scopa! Ma scusami, ma portatela presso! Tutti qua dentro ammazzati comunque! E poi dicono che pulire non è... Non è utile! Eh? Ritorna più bella che mai! Perfetto, ragazzi! Perfection! Silvia, mi puoi dire dove andare adesso però? Perché risucchiato anche lui! Quante cose ha visto questo bagno, ragazzi! Devo andare al piano di sopra o al piano di sotto? Cioè, perché noi adesso abbiamo recuperato due chiavi! Una della drawer, un'altra dello storage! Ok, torniamo su! Andiamo! Un'altra dello storage! Abbiamo fatto un trist di zombie! Sì, dai! È stato molto divertente! Ciao, media! Bentornos per dieci mesi! Grazie mille! Grazie di vero cuore! Amici, io vi ricordo 18 sub e potremmo essere tutti nudi! Fa caldo! Meglio essere nudi! Eh, vabbè! Ho capito però che due coglioni, signora mia! Eh! Questo è l'os! Se provassimo a mettere questo... Dai, dimmi che funziona! Yes! Sarei il medico di prima! E si controlli la prostata! Daie! Oh, Pippo Franco nel mio letto! Eh, non riesco a toccare la luce, ragazzi! È finita! Ok? Ok? Ti prego! Maria! Marisa! Marisa! Scappa! No, ragazzi! Non c'è nulla per salvarci il cane! Rambo! Rambo di bamba! Bamba! No, niente bamba, ragazzi! Niente bamba! Cambiato cam? No, è sempre la stessa! Eh, niente! Signor dottore! Lasci stare! Io non ho una prostata! Mi lasci perdere! Come niente bamba! È niente bamba, ragazzi! Lei indovino con una! Nance buba! Devo riscendere giù! Devo rifare di nuovo la scopa, ragà! Ciao, Raf! Ma son rossa di nuovo! Ma santi Dio! Usciamo! Se la portasse dietro questa scopa e sulla si ritorna al bar, ragazzi! Si ritorna sempre dove si è stati bene! Cioè! Si ritorna sempre dove si è stati molto bene! Noi in quel bagno potremmo lasciarci le recensioni! Vediamo! Ti prego, dai! Anche io mi sono chiesta perché non se la porta dietro! Ma... No, tipo... Ah, madonna mia! Per un attimo ho pensato, oddio, non la posso usare più! Alissa, preghiamo la maronna! Questo bagno è un po' a casa nostra! Vai! Sono pronta ad accoglierti a scopa aperta! Ci sarà lì la bamba! Ebbè, è un ospedale, suppongo di sì! Eh! E siamo a quattro! Siamo a quattro! Va bene! Dopo che mazzi controlla gli altri bagni, che mi pare ci sia un medikit! Allora andiamo a vedere qua! Però io prima ci sono stata! Alissa? Non entra! Non entra perché è il bagno dei maschi! La rincoglionita! Ah, sempre in quello delle donne! Ah, aspetta, allora mo' torno indietro! Aspè! Sempre molto lentamente, però torno indietro! La scopa è casa tua, sta sempre lì! Soprattutto quando finisci gli oggetti dovrei farti i giri dei piani per tornare dalla scopa! Ma nel senso che devo stare sempre lì! Come se la vedesse qualcuno! Ma tanto sono tutti morti! Salva che non si può mai sapere! Ragazzi, è vero, ricordatemi di salvare! Perché io non salvo veramente da 112 anni! Allora, 52, 54, 51! Salviamo sul 51! Forse qui dentro una scopa e un medikit dovrebbero essere di base! Passo i guai se qualcuno mi trova qui! Ma perché passa i guai se qualcuno la trova qui? Ma che ragionamento! Alissa, che ragionamento del cazzo è! Ti sei resa conto, figlia mia! Che sei sola! Circondata da zombie! Che stai facendo? Ma... Ci sono gli zombie! Eh, passo i guai! Non c'è nessuno qui! Non c'è nessun medikist! Magari qui? No, è tutto normale! A me non sembra normale! Di figlia mia! Riproviamo ad entrare qui? Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Eh, va bene che non c'è nessuno! Ma cerca un... Ma poi perché dovrebbe esserci un medikit in bagno? Forse sta su! Eh, ma sì, ma probabilmente sta su! Probabilmente sta su! Proviamo ad andarci su! Se magari questa volta ci lasciano andare senza farci trovare un mostro... Magari riusciamo anche a vedere cosa c'è al piano di sopra! Che ancora non siamo riusciti a vedere nulla! Vai, dai, amore! Ma tanto lo troviamo qua! No, non è vero! Allora, andiamo a prendere di nuovo... Ragazzi, siete pronti? Siamo pronti? Ciao, Nico! Buon pomeriggio! Siamo tutti pronti? Perché io sono pronta! Eh? Andiamo? 3 2 1 Ma c'è il poliziotto? Ma c'è il poliziotto? Il capo? Signora? Penso che sia Tate la persona che l'ha fatto! M'ha fatto con... Zio Philip? Sì, c'aveva del sangue giallo a casa sua, ti ricordi? C'è una creatura lì, che ha anche lei il sangue giallo! E Tate non c'è più! Scomparso? No! Dovremmo andare al laboratorio! Tate è il capo lì, no? Sì! Va bene, allora andiamocene da qui! Vado prima io e poi torni tu! Ma andiamo insieme! Non è il poster di Kojima? Sì, è un po' il poster... È il cartonato di Kojima, lui! Dove va? Chi è mo' sto Jim Carrey? Corri, ma noi dobbiamo esplorare! No, no, per lui abbiamo già risolto il caso! Caso risotto! Già fa... E io che l'avevo dato per morto! Ragazzi, i poliziotti non possono morire almeno nei primi capitoli! No! Devo toccare le cose qui, che non ci siamo stati... Ah, c'è un'infermiera viva! Ti prego, dimmi che trovi un medikit! È tutto normale! La tua normalità mi spaventa, Lissa! C'è una infermiera lì! Sì, grazie al cielo! Abbiamo trovato un First Taste Kiss... Kiss... Allora... Qui non penso che ci troviamo più niente! Parliamo con questa squinzia! Signora! Questa è la fine! Moriranno tutti quanti! E vagheremo per sempre! Signora? Eh, da nonna, è pessimista! Signora, anche lei! Ciao, Rob! È la fine! Moriranno tutti quanti! E vagheranno per sempre! Signora? Questa non ha preso le pillole! Rob! Bentornos per quattro mesi! Mua! Buon lavoro! Buon lavoro! E grazie mille, comunque, per la Sabina! Grazie davvero! Un bacino fortissimo! È un'infermiera di Roma Nord! Controlla a terra dove ci sta il paranco dietro lo scaffale alle spalle dell'infermiera! Un po' di ottimismo! No, lei sta presa male, raga! Facciamo anche hunting ground! Hunting ground lo devo portare! Sento sono già morti! Ma sì! Ciao, Veronica! La signora mi pare... Non c'è niente a terra qui! Non vedo niente di toccabile! Se non quello dove ho preso il Medicist! Però poi a qui a terra non c'è sta niente! Ciao, re Trentino! Che cazzo fai? Maronna mia, questa è una rincoglionita! Tao, sì, sì! Andiamo! Devo provare ad andare dall'altro lato! Vabbè, noi continuiamo ad esplorare! Mal che vada, questo oggetto lo troveremo! Siamo al piano di sopra! Lui ha detto che lo dobbiamo raggiungere al laboratorio, eh! In realtà! Quindi potremmo andare a raggiungere al laboratorio! Depressa e al buio! Madonna mia, poverina, veramente! Oh! Ma c'è un signore qui! Ma adesso è pieno di persone! Ma dove... Ah! È tutto finito! Lui l'ha fatto! Ah! Signore? Anche lei non ha preso le medicine? Mi scusi, ma... Ah! Tu! Le creature possono mangiare tu! Lei al posto di me! E mentre ti mozzicano io posso scappare! Che bell'idea! Ma tu si pazza! Lasciami! Sì, ma fatti mettere le mani in faccia però, Alissa, eh! Ihih! Fatte mangiare! Alissa! Alissa! Ma dottore, il giuramento di Ippocrate! Vabbè, facciamo che io con questo non ci parlo! Perché non hai mai provato la strada del doppiaggio? Perché faccio cagare! Ma che fai? Sparagli! No, ti prego, Alissa, sparare a qualcuno? Siamo pazzi? No? Come se ci fossimo parlati! Con lui ci deve parlare qualcun altro! Immagino! Infatti, mo' voglio andare a prendere... Andiamo da Gigino, raga! Andiamoci a mettere via il portacenere! C'è un oggetto contundente sul tavolino! Sì, no, 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 ma adesso lo chiamo Bates! Aspetta, devo cambiarmi in attimo gli abiti! Mi devo trasformare in Sailor Moon! Sailor Moon! Sailor Moon! Ci arriviamo in bagno, eh! Dobbiamo cambiare build, sì! Posso metterlo nel lavandino? Cioè, spero di poterlo mettere sul lavandino! Lo posso mettere sul lavandino? Eh, no, è tutto normale qua! Nel bagno? Madonna, Cristo di... Santo, mia piccola Alissa! Mia piccola sciocca creatura! No! Non stavamo in casa, no? Sì, sì, l'abbiamo superata quella parte! Nel vaso sul comodino dell'ultima stanza di questo corridoio! Allora, sperando di non trovarci Teo Mammuccari che si fa la barba! Perché altrimenti poi sono cazzi! Se usassimo il talisman alla scopa! Sì, bello! Se si potesse fare, lo farei! Ok, c'è un vaso qui! Effettivamente, un vaso col pandoro! Ma non si può mettere nulla qui! Forse nel cassetto? Sì, Alissa! Mettici il... Questo! Everything seems normal! Io questa donna la... Trovo come la mangio! Nell'armadietto! Bella tizia! Che dici? Dobbiamo mettere qui? Ok, dai! Qua va bene! Ok, sta a posto! Siamo riusciti a metterlo qui! Va bene! Ricordiamoci che è l'armadietto del corridoio, del bagno in fondo! Ce lo ricordiamo, vero amici? Delle splendide... Devo uscire da questa stanza e da questo luogo infernale prima che sia troppo tardi! Via! Non devo toccare le porte! Che questa interagisce subito! Poi ci mette un quarto d'ora per aprire! Annoto! Che devi annotare? Che io mi sono già dimenticata! Che ho detto? Che vi ho detto di ricordare? Ho dimenticato! Mannaggia! Allora, noi dobbiamo andare... In realtà dobbiamo andare al laboratorio! Però... Noi prima andiamo a pecchiare il dottore! Così si mangiano a lui, intanto! Di salvare! Ah, salvare! Ricordiamocelo, se no non lo prendiamo! Bates fa lo scostumato e niente good ending! Ok! Quindi posso fare la scostumata fino a un certo punto! Vabbè, usciamo! Ah, di ricordare dove è l'amuleto! Eh, dove è l'amuleto? Ciao, Tomoe! Allora, salviamo! Salviamo in un'ora e zero quattro! Benissimo! E andiamo via! Dottore, adesso sono pronta per farle il mazzo a tarallo! Vai! Dai, son pronta! Mo' vediamo! Mo' gli faccio vedere io! Ho chiamato papà! Ho chiamato papà! Signore, venga, venga! Sì, sì, lei rida pure! Sì, sì, lei rida pure! Ma lei è ancora lei! Lei è ancora lei! Sì, sì, è così! Che buona idea! You've gone crazy! Mimolli! Chiamo il possessore dell'amor! Hurry up and get eaten! Disparo! Disparo! Ragazzi, ma questo non fa... No, funziona, non si è trasformato! Devo trasformarmi prima di entrare! E quindi mo' devo trovare qualcuno! Dopo che posi l'amuleto devi farti colpire da uno zombie per diventare Batman! Se gli spariamo prima... E ho capito! Ma io che ne sapevo, Alessina! Scusami! E qui devo trovare... Vabbè, andiamo a chiappare sto scemole poliziotto, va! Questa sta ancora bene, lei! Signora, mi raccomando, non faccia porcherie, eh! Fallita di Alissa! Sì, non spara, non fa! Cioè, è veramente inutile! Non dà nemmeno del contributo effettivo alla trama, perché è lì e fa... Oh! Tutti morti! Mmm, me coglioni! Lei ha la scopa! Ho capito! Ma non è che uno si può armare solo di scopa nella vita! Ti prego, dai! Ma dov'è il laboratorio? Perché tecnicamente dovremmo andare al laboratorio! Giusto? Ok! Dice che devo andare in bagno! Ok! No, forse... No, non qui! Non qui! A destra! Devo andare di qua! Quindi! Perché questa roba qui... Io stavo guardando anche un po' la guida, ma effettivamente la guida mi dice cose che io ho già fatto, tipo la donna che parlava e altro! Va bene, Alessandra! Andiamo via! Usa la scopa, lo zombie! Briscola! No! Briscola no! Ciao, Monique! Marona, ragazzi, ma perché adesso sono tutti vivi? Giallo, sì, sono io che lo faccio andare super veloci a tratti per saltare qualche caricamento perché sennò veramente ci ammorbiamo! Perché sono tutti vivi adesso? Proviamo a parlare con questo... Mi sembra buono! Mi sembra un buon uomo! Ma chi è? Oh, mi dispiace! Non volevo urlare! Ma non ti faccio male, non te l'ho occupa! Sono un reporter! Un reporter? Sì, mi chiamo Doug Bobo... Vabbè, è piacere! Vado a dare un'occhiata in giro! Poke around? Ah, avevo un'occhiata in giro! Magari, non lo sai! C'è una bella storia qua! Una storia bella grossa! Ciao! Come si chiama lui? Non l'ho capito il nome, quindi dirò così. Ah, George Maxwell di nuovo! Ma chi è George Maxwell? Ma cosa sono queste lastre in metallo che guardano loro? Che lei guarda queste lastre in metallo? Cioè, non è un foglio di giornale, è letteralmente una lastra in metallo! Controlliamo qui? Ah, hai trovato un'altra pistola, però l'abbiamo lasciata lì! Vabbè, ci sta! Non è che ci possiamo portare... Come si chiama lui? Salva che non si sa mai! Vero! Vediamo un attimo! Salviamo! Salviamo sempre sul primo, tanto ci abbiamo parlato con questo, quindi va bene! E dobbiamo tornare di qua! Quello non era il laboratorio, quella era la stanza stampa, credo, dell'ospedale! Esiste una stanza stampa nell'ospedale? Io non sapevo nemmeno che esistesse! Cos'è questa stanzona? Tra l'altro noi abbiamo ancora una chiave degli drawers, però questa è chiusa! Giustamente! La stalla! No, non la stalla! La stanza stampa! Eh, ma non c'è nessun laboratorio, ragazzi, queste erano tre camere uguali! Eh, vedi, questa è la camera da dove venivo io! Cioè, non... Non credo che sia una roba... Fattibile! Forse è qua! Stai cercando di scappare? No, signora, io non... Nessuna risposta! No, signora, io non mi permetterei mai! Cioè, ma mai, proprio mai! C'era la stanza delle teglieri, ci sarà anche quella della stampa! Mi sembra anche giusto! Dobbiamo incrociare uno zombie, solo che le hai occupati tutti con la scopa! Silvia, ma non è colpa mia se sono leggermente isterica! La stanza stampa è nell'ospedale per i gossip per le infermiere! Esatto! Sì! No, non c'è niente qui! Eh, dice che... Devo... Devo zombarmi! Sì, effettivamente, devo zombarmi! Però mi dici, il fatto della storia G-Key che io già ho fatto! Secondo me dobbiamo fare qualcosa prima! Ci devo parlare con... Devo far scattare il cazzo di Bates! Perché sei isterica! Hai cucinato un altro dolce con Antonio! No, no, no! Prossimo episodio! Mi avete votato tutti quanti! Un episodio di Lost Media e quindi dovrò lavorare su Lost Media! Non ci è toccato minimamente l'idea di lasciare questo posto! No, 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 ragazzi, non si lascia il posto! Posto fisso? No, buone le codolette con limone, però! Adesso ho voglia di pasta, zucchine e gamberi! Ma in queste stanze noi ce l'avamo stati, no? Abbiamo guardato tutto, tutto, tipo questa porta l'abbiamo mai aperta? Eh, vedi, non abbiamo mai aperto questa cosa! Ti posso dire, anche io... Eh, buona! Ragazzi, è una stanza nuova! Ieri ho fatto il risotto, zucchine e gamberi, che buono, raga! Volevo la ricetta, mannaggia la democrazia! Eh, io ho fatto votare! Fra l'altro avete votato tantissimi! Io, sappiate, tenete sempre d'occhio la sezione community del canale, perché comunque io lì, mo' ci faccio sondaggi, robe, do informazioni, guarda, tutti questi files! E lì ho fatto scegliere! Mi avete detto tutti quanti che volevate il... il nuovo episodio! Tossine! I wonder what this one's about! Di che parla? Ciao, Tamova! Lei sta per la monarchia? Io non ho un monarco, io al massimo impero. Vabbè, qua non c'è più un cric, quindi andiamo via. Devo decidere questa sera cosa mangiare. Pasta con zucchine e gamberi. Sto bellotta che ha fatto votare tutti i suoi colleghi. Guarda, comincio a sospettare di sì, perché, cioè, ho avuto tipo 120 voti. Ho detto, sono tantissimi, cazzo! E quasi tutti quanti hanno votato il coso. Ciao, Francesco! Quasi tutti quanti hanno votato... il... il pirulo. Il nostro... il nostro ultimo episodio. Ci deve essere uno zombie nella stanza del corridoio dei bagni. Aspetta, aspetta, ma vediamo un attimo se magari sta qua. Buono, zero. Ma mo' vedo. Dopo la live magari mi metto a cucinare un po'. Ah, tipo, qui noi non ci siamo andati. Sì. Ah, siamo nella... Respe... Sì. Sì. È tutto normale. Cioè, noi abbiamo passato, siamo entrati nella reception per scoprire che era tutto normale. Ciao, Faffo! Per scoprire che è tutto normale e che va, cioè, possiamo andare via. Ma che cazzo. È tutto normale. È tutto normale, ragazzi. È un ospedale normalissimo questo. Ma è mai possibile che prima siamo stati investiti da 155 zombie e adesso non ce ne passi manco nessuno? buone, crepe e nutella. Buone, crepe e nutella. Gusto. Cioè, è mai possibile... Ho veramente ammazzato tutti gli zombie del mondo? Cioè, seriamente? È mai possibile che io abbia ucciso tutti gli zombie di questo posto? Tutto sembra... Eh, lei è tutto normale. Stessa cosa a prossimo livello. Nel senso... Che devo ammazzare tutti? Il grande potere di una scopa e un bagno. Ho sconfitto la cattiveria nel mondo. Poi, dove sta questo spaccimma di laboratorio? Vorrei incontrarmi con il poliziotto. Il poliziotto. Vorrei capire. Controlliamo qui. È tutto normale. Questo era il vaso probabilmente su cui io potevo infilarci le palle, poi. Gli specchi qui l'abbiamo controllati? No, è tutto normale. Voglio vedere un attimo Fast and Furious. Un'altra pistola abbiamo trovato. Questo posto è pieno di pistole. Ma è un ospedale oppure un'armeria? No, vieni qua. Non la porta chiusa. Non lo so. Nel senso che se ammazzi tutti devi triggerare Bates, la pigli in culo. Eh, ho capito, ma scusami. Ma prima è così che me l'avete fatto fare? Questi sono su Call of Duty. Ma non ho capito, ragazzi. Ragazzi, ma io non so dove trovarli a questi, eh. Per me è un manicomio. Dove sparano, però? Ah, ma ci sarà un signore nudo che mi vuole toccare? Madonna, ragazzi, niente più nudità. Act! Act! Niente. Eh, che faccio? Risalgo sopra, che secondo me sopra c'è un bel mood per i mostri. Cioè, non è possibile che io ne ho presi quattro, dai. Dai, fatemi uscire un bel mostricino. Piccolino, piccolino. Qua non c'è nessuno. Non trovo nemmeno più a quel fedente. E' ucciso quattro zombie. La popolazione mondiale degli zombie di questo gioco. Aspetta che ve lo ucciso un attimo. Dai, qualcuno, piccolo. Uno zombino. Facciamo zombie zombie insieme. Aspetta, ho sentito qualcosa. Eccolo. Cioè, tu? Siamo rimasti soli. Ragazzi! Sì, sì, nel finale cattivo ci ammazzava la nostra cugina. Era tristissimo. Di qua? Eh, cioè, allora, il signore giornalista è sparito. Sono spariti tutti. Io non so più che fare. Saremo qui? Ja, ma ci saranno zombie da qualche pa... Ma uno piccolo, raga, non me ne serve uno grande. Signora! Ma lei non è che sa? Signora! La signora non mi parla nemmeno più. Qui non posso fare più nulla. C'è la depressa e basta. C'è la depressa e poi c'è il posto con il pazzo. Infetta la e uccidila. Ma non posso fare nulla! Mi sono cagata sotto. Mi dispiace, Yoru! Non c'è un altro modo per sparare da solo. Non c'è un altro modo per sparare a questo già da adesso? Cioè, gli sparo da subito... E ci leviamo il problema. Non lo so. Tra l'altro, in tutto questo, io dovrei prendere questo screwdriver che non... Non so. Che non trovo. Però forse, secondo me, dobbiamo prendere lo screwdriver. Fammi vedere. Che è un vicino preventivo. Ma sì! Dice le middle shelf. Queste. Forse è qui dentro. Ma io ce l'ho guardato prima. Ma questo è veramente un ospedale! No, lei dice... Eh, ma guarda quante schifezze! Ma fatti i cazzi tuoi! Ragazzi, a lei non le interessa niente. Cioè, lei dice... Ma a me che me ne frega a me! Dice, quanta munnezza ci sta in questo posto! Magari questi? No. Dice che è tutto normale. È dietro l'infermiera il cacciavite. Ma dietro qui! Cioè, io sto toccando veramente tutto. Però mi continuo a buttare il... Il trigger lì. Aspetta. Mi continuo a buttare il trigger qui. E c'è lei che dice... Ah, guarda questa spazzatura! Che schifo! Maronna! Ma perché non puliscono in questo ospedale? Io non ci torno più! E basta. Quindi non saprei. Non ho idea. Però mi serve Bates. Il problema è che mi serve Bates. Ragazzi, ma io non posso essere bloccata. Cioè, non posso. Sì! Trombami! 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 Sì! Gogo! Sì! Eh, Browen. Non lo so. Non ne ho idea. Vai! Ricordati che poi hai la pistola. E quindi posso sparare agli zombie? Stanno ballando la salsa. Eh sì, si fa così tra zombie. Aspetta che io salvo, eh. Come memory card can't use. Maronna mia. Barista! Ti sparo! Gas! Yes! Let's go! Yes! Adesso siamo in possessomani. Andiamo su. Secondo me con la signora devo parlare con la... Con la medichessa. Devo parlare da Bates. Posso provare a parlarle. Aspetta, però prima di tutto fanno di salvare. Madonna, grazie a Dio. Io ho detto già... Già pensavo Dio. Ci siamo bloccati. Non posso fare più nulla. Proviamo a parlarle con Bates. Che questa secondo me è Yemena. Questo secondo me è Yemena. Ok. Signora? Vedi che con lei si può parlare adesso? Ma che ci fa qui? Questa è la fine. Moriranno tutti. E cominceranno a vagare per sempre. Ma che dimmogli da un calcio? Quella creatura lì. Che cos'è? Non vuole rispondere, eh? Ma se non risponde... Allora la ucciderò! Signora? Un signore è impassibile. C'è un file nel mio ufficio. Troverai le risposte lì. Ah, signora. È piena. Di informazioni intriganti. Allora, vediamo un attimo. Ecco qua. Vedi? Qui posso vedere. Perché così frenzola la signora? Eh, vabbè. Oh, finalmente abbiamo lo scrivra. Mi piace il modo di fare di Bates. Ma ho capito, ragazzi. Ma non si va con la violenza. Noi siamo senza violenza. Non siamo violenti. Noi siamo persone pacifiche. È tutto normale. Anche Bates concorda, come prima, che è tutto normale in questo posto. Quindi andiamo via. Ora abbiamo la riccia spiccia. Yes! Tra l'altro dovremmo essere arrivati anche più o meno dove credo che siamo. Che cazzo ho detto? Non si sa. Vabbè, ha detto che c'è un files nel suo office. Però prima, adesso, vado a buffare di vaccheri a questo. Cioè, adesso gli devo fare veramente un mazzo a tarallo. Ah! 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 Mi sono grattata le gambe con i miei due fiocchi sulle unghie! Mi sono scorticata le cosce! Che dolore! Ho fatto il gesto così con la mano, me le sono tirate tutte quante sulle gambe! Che male! Madonna mia, mi sono scorticata, mi uscirà un sacco di sangue! Sono molto contenta! L'attacco del gabbiano! Un grattino con i fiocchi! Signore! A noi! It's all over! Ma gli stacco la faccia! Ficcio il gabbiano! Ehi! Sì? Ehi! Ehi! You? Those creatures can eat you instead of me! Sì, se so cazzo! Ma signore! Ma great idea, devo accedere! Ma è pazzo! Ma non mi tocchi, la dico, non mi tocchi! Non mi tocchi! Ti sparo! Eccola! Gli spari! Te mangeranno! Non se mangiano prima te! Che cosa che devo fare? Gli sparo? Ah, non gli sparo! Ragazzi, ma gli posso sparare? Al signore! Cioè, non gli posso sparare! Che c'è? Certo, prendi il cellulare! Il cacciavide! E che io lo devo infilare in testa? Scusatemi! No, non penso! Il cacciavide non serve per questo! Allora, andiamo qua! E sparo la stanza come se lui non fosse qui! Ma il signore ha un po' le convulsioni! Il cacciavide! Il cacciavide! Ah, the drawer still is lost! Però c'ho la chiave! No, non è la chiave! Il cacciavide! Ma il signore, per favore, si può spegnere? Ah, gli ha dato un calcio nelle palle! Già un inizio, eh, ragazzi! Non... Ok! E quindi lui vive? Cioè, veramente, ragazzi? Questo mi stai dicendo che lui sopravvive? Sto minchione! E vabbè, andiamo via! Per ora! Che palle! E vabbè, e rida! E rida! Facciamo i conti dopo, eh! Io e lei! Non si preoccupi! Resta lì e riderà per sempre! Non muo vediamo, Gio! Cioè, mo sto scendendo! Allora, intanto scendo giù! Perché tanto giù è la roba! E... Dobbiamo andare a vedere gli uffizi! Ah, no! Perché dobbiamo andare a prendere la signora infermiera che ha detto che nel suo ufficio ci sono le cose! Ho domato i serpenti! Daglie! Allora, però... Sp... 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 Amuleto! Aspetta, ho aperto troppo tardi la porta! Questo è l'ufficio, però, della stampa! Quindi qui non ci troveremo nulla di stampabile, no? È un first day's kiss! Mi piace! O la depressa fa brutta fine! Ok, vado a prendermi l'amuleto! Perché lei? Devo andare a salvare la vita! No, il foglio l'abbiamo controllato, Giorgia, prima! Ah, no, però non con lui! Non con Bayliss! È vero, non l'abbiamo controllato con Bayliss! L'abbiamo controllato con lei! Infatti lei dice... Ah, ma che cos'è? Ma perché tutti parlano... No, non c'è... Non lo può toccare! Lo può toccare soltanto lui, lei, egli... Ormai non so più chi sono! Benissimo! Allora, se la mia testa mi dice... Bene, io salvo prima di tutto... Ok, a posto... Colui... Sì, colegli... Questa è la stanza del... Proviamo ad aprire questa... Non responsive... Però questa è sicuramente la stanza in backdoor key... Vedi? Movi, dico che questa è backdoor key... Non è vero... No, è vero... Sto scherzando... Era per fare uno scherzo... Sì, però questi non sono uffici... Queste sono tutte camere di... Persone vere... Quindi io devo andare agli uffici... Che suppongo siano dall'altro lato a questo punto... Giusto? Saranno di qua... O questi o l'altri... Secondo voi... Se io dovessi decidere... Questa per voi è una stanza delle infermiere? Cioè, per me, sì... Che cazzo... Cioè, ci stanno le infermiere qua... È tutto normale... Va bene... Tutto normale... Il foglietto nemmeno qui lo legge... Va bene... Ma sono tutti uguali... Vabbè, però qua si... Sembra un posto in cui si radunano le infermiere... Forse è qui... Sì! C'è una tossina cerebrale... C'è una tossina cerebrale... Il cervello ti trasforma in uno zombie... Ma è diventato Resident Evil... Quindi il punto debole degli zombie... È il parassitico... Devo provare... Signora, la sparo al parassitico... Avrò provato... Avrò provato... Non... Signora... Signora... Venga, che non le faccio niente... P6... No! No! Bait! Parassitico! Parassitico! Parassi... Ma vedi se devo mettermi a fare il ballo del... Simone... Eh, bei cazzi... Ma non mi muore! Oh, gira di epmira... Ragazzi, ultimo tentativo... Entri, signora, entri, entri... Entri... Parassitico! Eh, ma io ho finito i proiettili! Eh, ma io ho finito i proiettili! Che colpi per la signora! Dov'è finita? Eh, la signora si scioglie... A un certo punto... Non vi preoccupate... Vabbè, devo andare a recuperarmi la muleschio, comunque... Quindi andiamoci a recuperare sta muleschio... Ci sono altre pistole sparse in giro... E le abbiamo trovate... Il problema è che adesso non mi ricordo... No, oppure una bastonata con lo scopettone... E il caldo... Bra, serena... Esattamente... Ragazzi, dobbiamo tornare a prenderci la muleschio... Era di qua? Spero vivamente di sì... Perché altrimenti... Piango... Allora... Fra l'altro, se ci ricordiamo anche dove abbiamo messo un medikit... Qualcosa... No... Niente... Yes! Recupers! Benissimo... Ragazzi, abbiamo recuperato la... La nostra dignità... Però adesso dobbiamo capire... Dove prendere il medikist? Perché io l'avevo visto... Cioè, le ho visti un paio... Ma non so dove sono adesso... Dobbiamo ritornare intanto indietro... Quindi ritorniamo alla nostra stanza... Salviamo ora che abbiamo di nuovo la dignità... Anche questo è vero... Potremmo salvare... Per riavere un po' di dignità... Toh... Salves... Fatto... Tutto... Salvato... Hai trovato la dignità? Che magari c'è anche la mia... No, guarda Nico... Quella è finita... È persa per sempre... Perduta... Per... Sempre... Eh... Sì... È qui che volevo andare... È esattamente questo il posto... Adesso dovremmo entrare nella 101... Ma non... Ah no! Che cosa sto dicendo? Io sto dicendo delle corbellerie atomiche... Io devo andare dalla signora... Avvocato... Tua... Nonna... Era una... Sensitiva... Disdici abbonamento da Yucal... Ma è mica è colpa mia... Non parlare con le porte... Fermi... Allora... Dobbiamo salire... Sì ma io sono senza vita... Ho bisogno di... Forse così la ritrovo... Impossibile... Dobbiamo andare a parlare con la signora... Duchessa... Signora... Eccomi... Sono tornata... Come sta? Signora... Ma che fa? Signora... 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 Si fermi... Non voglio vivere più... No... Ma no... Se lei si suicida... Poi diventerà una zomba... Anche io... Morta ma viva... A vagare per sempre... No... No... Per favore... Non lo faccia... Lo fa? Non lo fa? Non lo fa? La posso lasciare? Qui? Oh... Intanto ho trovato pure un fist e schist... Quindi... La lascio qui? Ci sta pensando... Sì... Signora... Che fa? Io ho da fare... Signora... Che faccio? La lascio qui? Togliamole il tavolino da sotto i piedi... E non posso farlo... Signora... Che dai... Allora... Vabbè... Io vado eh... Con che flemma gli ha detto di non farlo... Mi raccomando... Signora... Ma poi l'unico motivo per cui gli ho detto di non farlo... È perché... Se lo si trasformava in uno zombie... Tanto quelle lampade non reggono il suo peso... Va bene... Ehm... Ritorniamo di qua... Andiamo... Che magari c'è qualcosa di utile... Appena esci si butta... E ma che posso farci? La signora ha deciso il suo destino... Chi se sta ancora ca... Capo? Hihihi... It's all over... He's the one who did it... Hihihi... Hihihi... Capo... Excuse me... Ma lei sta bene... Huh? You? Those creatures can eat you instead... Ma di nuovo? And while they're chewing on you... I... Can't escape... Yes... That's it... What a great idea... You've gone... Crazy... Ma lei si sposti dalla mia vita! Basta! Hurry up and get eaten! Non si morda! Mi lasci! Ma io ho un modo per non farmi fare dei problemi... Cioè lo si deve ammazzare! E io come lo ammazzo a questo rincretinito? Sparagli prima! E non posso! Perché lei non spara! No! Bates non lo ammazza! Teoricamente dovrebbe arrivare il poliziotto a sparargli! Eh ma il poliziotto è il laboratorio! Sentite! Ritorniamo giù! Io ho preso delle chiavi! Allora io ho due chiavi! Che ancora non abbiamo usato! Forse deve essere... Eh no! Prima eravamo Bates! Bates non l'ha ucciso! Quindi... Penso manchino quelli! Nel senso manchino le chiavi! Proviamo! Vediamo un po'... Eh... Dice che devo andare nell'Hallway il 2! Ma io non so dove sia poi! Pruiziotto si va infatti su! Sì! Chi... Non stava nel laboratorio! C'è... Allora qui... Credo... Credo, non lo so però! No! Perché io devo ritrovare di nuovo... Brong... Brons! Però il problema è che io non so dove sia questo Brombr! Che dobbiamo ritrovare il signor Reporto! Che però credo che l'Hallway sia questo! Forse è qui dentro... Signor pronto? Signor Reporto? No! Qua non reporta nessuno! Qua nessuno vuole reportare! Eh... Mica è la colpa mia, avvocato! Forse sarà in fondo? Però in fondo c'era una stanza di morti! Eh... Non c'era altro! Quindi no! Usciamo... No! I trigger della voce della signorina! Ne deve trovare tre! Uno nel cesso e l'abbiamo trovato! Uno nella porta doppia nera e l'abbiamo trovato! Uno di qui... Ah! Uno ci deve interagire Bates ma non so quale! Ah! Ecco! Un cassetto delle camere! Allora... Il... Il cesso l'abbiamo fatto! La porta l'abbiamo fatta! Eh... Però il resto no! Abbiamo fatto questo qui! Del sang... Però ma che è sta musica di terrore? Penso il cassetto allora! Però con Bates! Eh ma i con Bates... Io quando mi ritrasformo più... Quelli non ci sono più gli zombie raga! Sono spariti di nuovo! Sono stati in vacanza! Provo a riandare di qua! Prova a controllare da tutte le parti! Metti mai! Perché questa stanza non l'abbiamo potuto ancora aprire! Qui non c'è nessuno! Perché io devo trovare Dug Dogs! Nintendogs! Qui è tutto spento! Ma non c'è nessuno! Faccio trasformare la signorina! Eh ma a me non... Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Fa il rar! A questo punto la signorina può buttare... Sì ma a questo punto lei scusami ma qual è il suo scopo nella trama? Non può menare! Non può fa' niente! Deve sta' lì a prendersi le mazzate! E' Daz Bosmans! Oh no ragazzi! Mi sa che sono sponati di nuovo i... AAAAAH! Ma lei è un figlio di indrocchia! Mi malle! Ma che dribbling ha il gerardigno! Eh io mo dove mi spoglio? Eh devo posarlo però! E non so poi dove posarlo! Lasci l'amuleto! Lo so! Chi? Gerardigno! Non c'è nessuno che si chiama Gerardigno! Aspetti qui che ci dobbiamo trasformare! Improvvisamente Sailor Moon! C'è nessun giocatore che si chiama Gerardigno! Ya ragazzi non ci credo che non ci sia... NESSUNO CHE SI SPOGLIA IN QUESTA CASA! PERCHE NESSUNO SI SPOGLIA IN QUESTA CASA! Eh ragazzi sono inculata nel culo! Ti prego! Una fusione tra gi- Eh eh! Ok! Ci siamo! Una fusione tra il gilardino e il ronaldino! È normal! È normal! Tua mamma è normale! Tua mamma è una persona molto normale! Ok! Mo' dobbiamo ritrovare questo cesso! Mo' chissà dove è andato a imboscarsi questo! Capo! Capo scherzavo prima! Dai! Rivediamoci! Signore! Ciao paradì! Ah signora non ci sta più! Non so se prenderla come una cosa positiva o una cosa negativa! Capo! Devo fare la trasformazione di Sailor Masus! Cina di nuovo giù! Magari sarà giù! Invece non c'era! Capo! Niente! Magari è sceso al cielo! Eh sì! Vabbè Gesù Cristo! Andiamo di qua! È su PS6? No! È su Xbox 9910 che c'ha solo mio cugino! Qui non c'è niente! No! Qui non c'è nessuno! Andiamo un po'! Questo comunque amici! Io ve lo dico! Sfilatevi le palle dal culo! Perché domani lo continuiamo! Che in realtà siamo alla fine! Sì! Magari lui trova qualcosa di strano! No! Manco lui trova qualcosa di utile in questa stanza! Io vorrei capire che l'hanno messo a fare questa stanza! Ma come domani? E domani è verdi! Perché illudi? Domani lo finiamo! Certo! Cioè prima ci piovevano veramente gli zombie addosso! Domani festa! Perché domani festa? No ragazzi! Domani è verdi! Domani si fa live! Come tutti i verdi! Salmone! Salmone affomicato! Eh! Dai! Non è che ci chiamiamo qualcuno se faccio blood! Perché domani lo finiamo! Se lo finiamo! Ma certo che lo finiamo! Ragazzi! Ma per chi mi avete presa? Per una senza spirito! Dai ti prego! Dammi solo un minuto! Un soffio di fiato! Un ultimo zombie! Dammi un po' di zombie! Un solo bacino! Ricordate Capri? Quella era una passeggiata! Ma non dire! Si fa festa il mercoledì pomeriggio come gli alimentari! E oggi non è mercoledì! Quindi che spacci ma volete! Domani di quale anno? Ragazzi! Vi dico che ho tutto nelle mie salde mani! Ci serve soltanto far sponare un grifone! Facciamo sponare il medico dei turisti! E vi faccio vedere come tutto verrà risolto! Qui non si può fare nulla! No! Viero becco! Ci deve arrivare soltanto un dottore porno divo! Accendiamo la luce! Se ci arriva un dottore porno divo! Io vi faccio vedere che noi risolviamo la faccenda in men che non si dica! Tutto è normale! Lavandino! È normale! C'è anche Johnny Sins! Sì sì sì! Sins! Per lei è tutto normale! In questo posto! Lei è una persona normale! Facciamo morire la signora! Ma no! Meglio di no! Che ci serve ancora! Almeno il suo corpo! E perché proprio divo? Perché non lo vuoi divo? Allora! Ragazzi! Io direi che ci fermiamo quando troviamo il mostro! Così ci trasformiamo! E sappiamo che possiamo fare le baldorie! Ma scusami! Tecnicamente il poliziotto avrebbe dovuto sparare al vecchio mentre ci aggrediva! E non mi pare abbia saltato pezzi! Quella è la cosa grave! Quanto è veloce quell'ascensore! Eh guarda! Negli ospedali giapponesi sono bravi eh! Ma come faccio a farlo uscire? Il mostro di Firenze! Lo sentite? No! Non l'avete sentito alle allucinazioni? No, no, no. Io li sento. Io li sento. Fatti curare. Ma fatti curare tu. Era bellotta. Non era bellotta. Io ve l'ho detto che lo sento. Io lo sento. Vi dico che li sento. Li sento. Lo so. Li percepisco. Mi tocchi. Mi tocchi. Mi tocchi. Mi tocchi. Che mi trasformo. Bra, esatto. Un calcio nelle palle e via. È sensitiva. Eh, ve l'ho detto. Nella tua testa. Ma qua testa. Allora, ma come scappo di scappo? Era di qui? Sì, era di qui. Senta signora, io non ho più tempo da perdere con lei. Le posso sparare un proiettile? Sì, sperando di beccarla in testa. Yes! Ok, e con questo abbiamo finito i colpi. Quindi, mi raccomando, cerchiamo di non dover sparare mai più. La prima è che ho fatto, allora, due cose ho fatto offline. La prima è che con Bates dovevamo sbloccare letteralmente un'altra discussione con la signorina, quella lì che ci parla ogni tanto che sentiamo. Uno di questi eventi lo dovevamo fare con Bates e l'ho fatto. E l'altra cosa che ho fatto è stata utilizzare la chiavetta che noi avevamo per aprire un cassetto per recuperare questo fantastico Showscast. Ciao Lilium, buon pomeriggio, benvenute per recuperare questo fantastico Showscast che ci servirà a qualcosa. No, perché adesso siamo a lissa e non possiamo farci una beniamata mazza. Ma finalmente, amici, è arrivato il momento di andare avanti con il nostro meraviglioso viaggio. Salve signore, di nuovo a fare questa manfrina. It's all over. Ecca là di nuovo. Il signore che c'ha problemi. Musica di tensione, tanta tensione, ancora dell'attenzione. Va bene, siamo tutti preoccupatissimi, mi raccomando fate le facce preoccupate. Oh mio Dio. Vorrei sparare. E adesso però è perso il segnale. Adesso posso sparargli. Spaccati, lasciami. Fine. Amici, è morto. Sì! Grazie al cielo. Grazie al cielo. L'uomo è stato veloce e intenso. Io ho goduto. È morto con una spinta. No, è stato sparato. È stato sparato da qualcuno alla testa. Ma non si sa chi. Quindi finalmente ce l'abbiamo fatta. Ce la siamo levati da questa... Veramente non ce la facevamo più. E Max... Non riesco a perdonarti. Ma chi sei? Non è importante. Chi è la signora? Un po' sbiancata pure la signora. Grazie per avermi salvata. Salvata. Solo perché non ti lascerò morire così facilmente. Ma chi è questa signora? Ma... Era un po' sbiancata la signora. Ma era una di quelle che si truccano per diventare Genshresh? Ma non lo so. Noi nel frattempo dobbiamo recuperare però... Una bagasca. Ma com'è una bagasca? Ehi! Allora. Un po' di contegno. La signora non prende il sole. Sì, non è una questione di non prendere il sole. Perché non è che è una persona non abbronzata. È letteralmente bianca in volto. Ma bianco proprio Casper. Non è molto salutare. Allora. Andiamo finalmente. Dove dovremmo andare, credo. Non lo so. Ah, no, no. Dove vai? Jessica! Ho sbagliato. Ho sbagliato. Torno indietro. Via. Un po' di anemia. Ci sta. Ho capito. Però un po' troppa. Non era molto viva. Io ho come l'impressione. Vi dico. Io non so la trama di questo gioco. Ho come l'impressione che è allo stesso biancume della cugina. Quindi ho come l'impressione... Ma guarda Jessica Rie. Ho come l'impressione che sia la cugina da grande. Tipo. Che la vuole far morire. Perché è allo stesso biancure della bambina di prima. Quindi andiamo via. Offendiamola a metà. Abbiamo appena iniziato. E anche questo è vero. Salve, uomo duro! Quello laboratorio è a nascondere dei segreti. È vicino a questo ospedale. Research lab? Laboratorio di ricerca? Eh, per ricercare i farmaci principalmente. Io sto andando là. Vuoi venire con me? Possiamo scegliere. No, io però non ci vado. Non ci vado. Ciao, Crackinessa! Non ci vado, non ci vado. Vabbè, l'orbito di cura di te. Non ti faccio in un posto come questo. E chi ci vuole andare in quel posto brutto? Veramente, che schifo. Io non lo so. Ciao, Phoenixa! Lo dicevo che era la protagonista del futuro solo perché ha lo stesso taglio dei capelli. È vero. Anche. No, però la protagonista... Cioè... Ah, è la protagonista del futuro. E perché vorrebbe auto-ammazzarsi? Il mio lavoro qui è finito. Com'è il tuo lavoro qui è finito? È tutto il capitolo 3? Non lasciarmi. Scusami. Perché dovrebbe auto-ammazzarsi lei del futuro? Cioè, non ha senso. Ha più senso che magari sia lo spirito della cuginetta che lei stava cercando di smazzolare. E finalmente possiamo andarcene da questo splendido ospedale, seppur molto temibile. Quindi via. Grazie per i suoi servizi. Ma aspetta, Milord! Un attimo! Andiamo via. Sì. Quanto dura questa scena. Finalmente l'uscita! No, è chiusa. Però noi abbiamo la chiave. Quindi... Aha. Oh no, è chiusa. Massimo! Amico! Andiamoci da qui! Ma la porta è chiusa, chiave! Vai, leva da Nance! Spararla non è che si... Non è che ti apre la porta a sparare. Bravo! Oh no! Signore, ha le palle proprio, lui mira. Due, tre... Alissa? Alissa? Ma che si accascia questa? Ciao Angelo! Oh no! Marchio! Come lo sparo? Ragazzi, non sparo! Sparo! Ah, devono fare il giro della mort... Oh, spara! Sparo, c'è no! Quanti ne devo sparare? Sparo! E vabbè, ho capito, ma è diventato Terminator! Ma la rivolta degli zombie... Tutti da qua uscivano, sti medici! Medico! Vado via! Mi salghi! Quanti ne escono più? Basta! Basta! No! Sto ammazzando un intero ospedale! Ah, perché sono già morti? Però, non mi sembra il caso! Spari! Spar! Sess! Io stavo per morire! Stavo per morire! L'ho sentita veramente nel mio colesterolo! E ho finito di ammazzare un intero edificio? No? Ancora no? Quanti ce ne vorranno ancora di cadaveri? Ah, signore! Io non ho fatto il tagliando! Mi scusi! Torni in sala parto! Signora! Signora! Per favore! Non mi piacciono le persone vicine! Mi piacciono le persone quando sono lontane! Via! Allontanatevi! Grazie! No! Via lei che ha il covid! Signore! Il covid! No! Aveva davvero il covid! Ma quanto doveva durare questa scena? Scusatemi! Sto sparando da 20 minuti! Sono quasi due minuti così! Sì, ma come due minuti! Ciao Mitsuno! Ciao Foxy! Ciao amici! Buon pomeriggio! Ma cosa vuol dire? I dati che appaiono servono per capire i loro punti deboli! Let's get out of here! But the door's locked! Sì, dai! Spicciatevi voi due! Due minuti è easy! Ma per me io ne ho passati sei di minuti! Ecca là! Questa mos viene di nuovo! Le vengono i cinque minuti! Va bene signora! Arrivederci! Sono affascinanti i giochi horror giapponesi anni 90! Ma questa... Io vorrei capire che cosa hanno pensato loro! Vai! Riprendi il pistoletto! Benissimo! Capo! Grazie! Ho già fatto il vaccino! Sono vaccinato! Sono giapponese! Sono vaccinata anch'io! E sono anche giapponese! Signora! Giù le mani del mio pepo! Si sposti! Quanto giapponese! Ragazzi! Ma il dottore non dottora! Cioè il dottore proprio non collabora! Io non capisco per quale motivo! Certe persone proprio non collaborano bene! Dottore? Si scansa per favore! La signora! Grazie al cielo è tornata indietro! Questi dottori li vedo veramente molto preoccupati! E preoccupanti! Ma anche l'infermiera ha il suo posto nel mondo! Vada via! Vada via! Anche lei signora! La prego! Fatemi vivere! Ti prego! Non lo voglio soltanto uscire fuori da questo posto! Spara al medico! Non lo sparate al medico di solito eh! Non si fa! Credo che sia sbagliato in alcuni paesi del mondo! Però io per decenza culturale dovrò farlo! Madonna mia signora! Però anche lei! A che deve fare il giro! Ma che stanno a fare la sfilata di moda! Vanno in passerella! Mi molli! Mi molli! Vi giuro vi sparo tutti in faccia! Basta! Fai uscire la signora che è in te! Quanti ne stanno ancora? Finiti? Sì! Ora non ho più un medico! Ma allora! La signora pareva molto entusiasmata! Ciao Clayne! Bis! No grazie! Platinato! Oh santo c'è! Sì? È morta! Ah sei sveglia! Eri inconsciente! Ti ho portato qui! Spero che non ti dispiaccia! Dove mi trovo? Nel laboratorio di ricerca! Ho visto Filippo che entrava qui! E come un poliziotto non posso ignorare questa cosa! Mio zio? È qui! È molto sospetto! Con tutte queste evidenze deve essere coinvolto per forza! Non è vero! È il direttore del laboratorio! È normale per lui essere qui! In ogni caso... Vabbè! Stati qua tu! Io vado a dare un'occhiata! Ma non mi lasciare sola! Le 3000 ore di Fortnite ti sono servite! Vedi? Vedi? Posso salvare prima di tutto! Ma qui... E quindi mi lascia sola! Ciao Nercione! Buon pomeriggio! E quindi mi molla! C'è bella questa cosa! Comunque lui prende e mi molla! Vabbè! Andiamo via! Andiamo a fare le nostre prime ricerche! Apri giusto? Qui c'è un labor... Ah! Noi siamo venuti da qui! E allora vai qua! Seguiamo lui! C'è un'amborta! Andiamo... Andiamo! Ciao Zia Jimmy! Ciao Scudo! Buon pomeriggio! Ah! Ci sono delle scale! Beh! La vita è fatta a scale! E io salgo! Io vado da questo signore! Così mi sembra che sia il modo migliore per trovare robe! Che bravo Montalbano! Ma non è nemmeno pelato! Fosse quanto meno pelato! Va bene! Proviamo a entrare di qua! Vado! Sì! Ma è di nuovo Lifeline! Inna fra l'altro! Avrà il riportino! Mamma mia dove cazzo! Aspetta! Accendiamo la russa! Accendi! Bella papà! Ok! Cerchiamo un po' in giro! Mi sembra un bel laboratorio questo! Ho trovato una chiave! Non si sa di cosa! Però ho trovato una chiave! Penso che sia un buon inizio! Non c'è nulla! Non c'è nulla! E allora che analizzi a fare se non c'è nulla Francesca? Io vorrei capire come ragiona il tuo cervello! Vabbè! Non c'è nulla qui! Possiamo andarcene via! Ma che mi interessa! Va bene! Posso andare via? Via! Andiamo di qua! Quest'altra porta! Vediamo che cosa c'ha! Almeno leggi qualcosa! Che devo leggere? Giocare questo giorno con il gioco con il D-pad del controllo originale deve essere stato un incubo! Ma questa è la... Noi venivamo da qua! Sì Fele ma infatti è il precursore di molti tipo... Un po' tipo Granny like! Ovviamente Granny non è manco paragonato! Cioè non è nemmeno la Waller alla pizzaiola di questo gioco! Però insomma diciamo che il gioco horror consisteva... Dust! Dust! Ma è che faccia una carne! Uè Alissa! Signor Bomanno! Ho visto qualcosa di brutto! Un uomo pieno di sangue! Con un'accetta! Mi ha attaccato! È pericoloso! Ma lei nell'ospedale non ha visto niente! Ma lei comunque nella vita ripete! Qua è stata corta! E lui continua a fare i cazzi suoi! C'è un uomo pieno... Ricoperto di saliva! Ti ha attaccato! E quello che lui fa è continuare a fare le robe! Vaghe e pettorali! È carne! Ah! Pistolino! Ma serio? Ma mi sono fatta male per questo! Mi ha attaccato con la cazza! Chissà cosa c'è qui! Ma guarda io non voglio guardare mai più! Non voglio controllare mai più cosa c'è nelle cose! Questi libri sembrano molto tecnici! Chiedi a lui che magari sa qualcosa! No! Non sa nulla! Va bene! Io però intanto mi sono fatta male! Inutilmente! E lui non si muove! No no no! Lui proprio... Chi se ne frega! Vabbè! Il suo lavoro lì è finito! Lui ci deve soltanto avvertire che c'è un uomo con un'ascia! Ci sta! Ci sta ragazzi! È normale! Ciao polpone! Un attacco dagli insaccati! Ma poi che cosa facevano in questo laboratorio che avevano le mortadelle? Quello ti ignora così? Ma ragazzi mica è mio padre! Cioè mica mi deve salvare! Ognuno fa per sé! A me stranisce il fatto che lui sia passato per l'ospedale e non abbia minimamente avuto... Ma devo scendere qui? Suppongo di sì! Suppongo di dover andare tipo qua! No! Lui è venuto da qui! Ma chi è venuto da qui? Io non ho mica capito chi è venuto da qui! Ragazzi chi è venuto da qui? No risali! Uno slot per inserire le cards! Ma questa forse! No! Non sbaglio! E qui invece... È chiusa! Va bene! Quindi devo tornare indietro! Ho sbagliato strada! Toh! Cioè lui è stato nell'ospedale! Ma com'è possibile che non abbia minimamente visto nessuno degli zombie? Cioè non ho capito! È stupido! Non lo so! Camminavo con la testa bassa! Come ho fatto a rimanere in ospedale a non sapere? Che adesso è arrivato! Ho fatto... Ah no! Però c'è stato un uomo che voleva... Vole uccidere le persone! Vabbè! Ok! Sì! Ok! Di qua si può entrare! Ma non era questo il posto con le scale? Ah ah! Degli armadietti! Esattamente quello che volevo! È normale! C'è un uomo zombie per lei! Ragazzi questo gioco lo devo finire! Costi quel che costi! Non c'è niente! Va bene! Mi fa piacere che comunque abbiamo appurato la nientezza di questa stanza! È chiusa! Beh! È proprio ora di utilizzare questa chiave! Oh è vero però! Vedi che so dove mettere le mie chiavi! Va bene! Perfetto! Non si apre! No non si ha! Cos'è questo? È un obitorio! Ma è tutto spezzato il signore! Chissà che esperimenti facevano qui! Guarda! Tesoro mio! Non lo so! Oh! Un ace kiss miss! Bellissimo! Ok! Perfetto! E ora di chiave! No! No! Non si fa! E qui quindi? Lo vogliamo riguardare? Tra l'altro è in muta! Ah! Ha perso la testa per me! Uno shotgun in un obitorio? Siamo sicuri davvero che sia la cosa giusta da fare? Sta proprio a pezzi! Che creature è quella? Non ho mai visto niente di simile! Quale creatura? Ma io non vedo nessuna creatura! Perché c'è la musica di tensione? Ragazzi devo mettermi paura! C'è una musica di tensione! Non mi piace! Il fatto che ci sia questa musica di tensione! Quindi io andrò via! Tanto qui è giaccato dalla testa! Peggio di così non si può andare! Suppongo! Si spara adesso! Non posso sparare io! Maroni! Allora c'è una suoneria! Anche qui il telefono ovviamente non prenderà! La linea è morta! Perché mi chiede... Io mi chiedo per quale motivo mettano dei telefoni in questo gioco! C'è... Non funziona nemmeno la stampante! Ragazzi come lo stampo adesso il mio foglio di uscita? Ci sono dei laboratori... Ah ok qui posso interagire! Quando mai non è... Cioè ma è dall'inizio! Hmm... It doesn't work! Non funziona! Sì musica di tensione però poi non succede nulla! È solo per metterti tensione! D'altronde la musica di tensione... È tutto normale! Ragazzi... Continua lei imperterrita a dire che è normale... Devono morire tutti e soffrire per sempre! Chi è questo mo? È il signore con l'aschia! Scappa! Scappa lì! Alissa! Cosa cazzo fai? Alissa! Vai via! Ssss! Eh sì ma che è? Il diavolo! Vrebbe scappare dall'altra parte questa è credina! Un wrestler messi... Sparo! Ragazzi come gli sparo? Avete capito che questo c'ha... Cioè non... Non lo so! Cosa faccio? Gli lancio il... Che gli posso lanciare appresso? Questo! Gli lancio il carrello! Dai mi ha preso qualcosa prima! Carolina! 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 Dove vado? Ciao sesto! No ragazzi dove cado? Ciao Yoru! Eh io apro e lui... Cioè io... Lui... Io vado via e lui torna! Ragazzi dove cazzo scappa? Sembra che si sia rotto un tacco dalla scappa! No non si poteva stare dentro gli armadietti! Trova a scendere giù! Ma sento poi il gori da storia sotto nella musica! Ehi! Ehi! Di fianco al morto c'era una bacinella che gli puoi lanciare! Eh io mo' come faccio? Ah raga ma qui non c'era una porte! No cazzo! No cazzo! Cazzo non c'era una porta è qui! Entra! Prima che arrivi la nudità! Ti prego Alissa! Ti prego Alissa! Ti prego Alissa veloce! Oh santi numi! Arriva a mangiare le spinacine! Mannaggia tutto! Dove cazzo vado? Eh ragazzi sono morta eh! Sono morta! Sono morta! Perché questa mo' entra... Entra in quella porta lì! È inutile! Come faccio? Ciao Marta! Sono morta! Santo cielo! Non è possibile! Non è possibile questa morte! Dai però che palle signor Maxwell! Io non me lo merito! Ah! Non mi ha nemmeno tagliato! Non me lo merito! Neronda! Entra! Ok! Ti accetto per quello che sei! Non voglio! Grazie! Allora vediamo un po'! C'era una bacinella! Una bacinella! Ragazzi trovatemi la bacinella! La bacinella! Questa mi sembra una bacinella! Vai Alissa! Come potrebbe morire con una bacinella? Si vede che non erano i coltelli dello chef! Non erano affilati! Ciao Rullo! Alissa! Oh! No! 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 comincio ad avere dei dubbi eh lo so Silvia e io come faccio per adesso? cioè mi attacco al cazzo cioè io mi attacco direttamente al cazzo perché non posso fare altrimenti però forse però forse adesso che lui ci attaccherà perché ci attaccherà io scappo di qui ciao Monica è una pistola, lei non le sa usare ragazzi io la userei, io userei lo shot io gli sparerei in faccia a questo ma lei non la sa usare non è capace non è capardia vabbè devo scappare devo scappare perché a quanto pare la bacinella non è servita a nulla ciao Yuri non è servita a nulla mi serve solo scappare usa le testate ma questa non è capace di pensare con la sua testata ok, chi che fa? non si fa niente no, no, no niente ragazzi nulla si andiamo via let's go si ma io sono nel panico oh Cristian qui, credo ragazzi io non so dove sto andando non so dove sono signor Massimo non mi lasci la prego non ce la posso fare si sto andando bene ok oh santa polpetta un fraffreddore prendo questo accendino lo ammazzo? ti prego dimmi io lo ammazzo cioè senti ma c'ho Satana che mi insegue qua bellotta guardalo lì quanto è piccolo e duro e glielo sto colpendo una bomboletta gigante bam oh finalmente grazie al cielo grazie al cielo ok va bene stessa tecnica stessa tecnica carabinieri perché il carabiniere? che ci fa il carabiniere in un laboratorio? steng minchia ma basta tornare nell'altra stanza ma perché torna da sola? cosa fa? ora scopriremo che ci serveva in qualche modo per fare il good ending non mi interessa nuvo io un bad ending va bene allora ritorniamo di nuovo qui apriamo questi armadietti magari troviamo meglio mi avete rotto le palle basta ma che cos'è? ma per ti prego ciao school ma io non ce la posso fare ma perché? ne vogliamo altri lei è piccola ma fortissima io non lo so nemmeno alzare un estintore posso andare mi è andata attraverso la mia interesse ma pensa a me posso aprire questi armadietti e vedere se trovo un medicist? non c'è nulla l'estintore è arma suprema sì no no ma è veramente l'arma più forte dell'universo ciao Isabella ti prego dammi un medicist ti prego dai un piccolissimo medicist ciao Alice infatti sono pesanti poi quelli sono no sì appunto cioè gli estintori sono pesantissimi lei è fortissima la persona più forte dell'universo bagno delle donne questa discriminazione che il bagno delle donne sia rosa non mi piace ma c'è stato un momento scostumato cos'è successo? cosa è successo? spero che non esca più niente da qui ma cos'era? perché c'era un maniaco? ma sì Alissa cosa vuoi che sia? chissà chi l'ha presa chissà chi l'ha toccata gli è scappata all'inizio del gioco chissà perché cos'è eh guarda Alissa io dopo quello che è successo in bagno in bagno non c'entrerei mai più salvo qui una easter egg easter egg per cosa? per un bagno in cui ti danno una tromba l'hanno letteralmente trombata in bagno cioè non so cosa è io vi giuro è stata la scena più what the fuck del momento in tre ore e quaranta non ho visto sta scena eh ce la siamo beccati noi pensa un po' che culo allora andiamo di qua ci sono dei computers la donna attenzione intanto accendo il computer che non so no non so visto il gioco potrebbe eh sì 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 ma io ci sta era un la donna c'era sì io ho zero di vita ti prego mi serve qualcosa di forte ha avuto una griservile no no ma allora è stato qualcuno che lei ha appena aperto la porta del bagno l'ha tirata dentro chi sei tu? mi chiamo Shannon un fantasma? che fortunata che cosa che sei venuta qui sei venuta per morire e io ti posso aiutare ti do eh ciao bobs hai salvato sì vabbè allora scappa così posso divertirmi con te e lei va via Shannon ma io non ho capito perché mi odia così tanto questa donna chi è Shannon? estintore anche con lei non vabbè tutto normale benissimo facciamo così qua io metterei l'amuleto quindi lo infiliamo qui dentro così eh ma come mi trasformo in bezza adesso che io sono più morta che risorta che sembro Gesù Cristo ormai cioè che dove me devo portare? dove porto il mio corpo morto? come corpo morto cade le serve una bella bistecchina al sangue vai avanti vai io vado avanti però ho paura schianto di morte arrivederci finito finito dai ti prego no io non posso fare questa vita mi serve fatti colpire ma sono rossa mi ammazza mi ammazza non posso proviamo io mi faccio colpire mi tocchi mi insuchi mensu dici l'anima sì mi faccia godere come una bandrilla sgaspo sono morta non divento Batman se sono rossa divento Batman solo se sono passo da bianco a giallo ma da rosso no voglio diventare Batman allora ragazzi noi avevamo trovato un medikit vi prego fate mente locale dove lo abbiamo trovato il voy a medikit li vendo ti prego dammene uno rosso diventi Robin l'avevamo trovato no no ragazzi sono giusta non vi preoccupate devo solo ricordarmi la strada per ritornare di qua ricordatevi questa strada al contrario non era nello studio quale studio non mi ricordo è questa la porta da cui vengo che ne so io no perché da qui viene lo zompo via dove stava il cadavere sta sul primo tavolino entrando e ragazzi ma l'estintore questo lo devo ammazzare per forza però scusatemi mi sa che devo ricaricare la partita mi sa che devo caricare la partita perché io da questo non ci devo andare non lo devo triggerare perché altrimenti non mi posso trasformare in baits cioè adesso lo ammazzo benissimo il problema è che io mi devo trasformare in baits e mi serve un mostro per trasformarmi ce ne sono altri mi prego ma adesso non ne appaiono più finché morte non ci separi cioè ma non ce ne sta ma non ne vedremo mai più uno di mostro fra l'altro lei adesso è gialla perché lei adesso è gialla perché lei adesso è gialla è quello che dicevo quando l'hai detto ma poi dico io ma non facciamo fra l'altro non stiamo facendo più live da un po' di tempo ma voi venite in live da me a scriverlo sì Darien comunque la fa la live la fa allora ha detto che inizia alle 23 15 tipo più o meno e la finisce poi alle 6 di mattina quindi mi raccomando segnati l'orario 23 e 15 più o meno dov'è il medicist ha detto Silvia che c'era mi ha mentito mi ha mentito ah no forse devo accendere la luce accendi la luce eh scusa scusa ciao Rayel se è bannato non sente neanche la live allora aspetta glielo scrivo ah grazie al cielo un medicist mi lo scrivo come si chiamava rincoglionito Darien Darien se mi senti o mi vedi babba la live la inizia alle 23 mi raccomando non te la perdere no 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 sbannatela allora subito sbannatela subito sbannatela subito sbannatela subito mi serve che sappia deve sapere è marcio mondo marcio vediamo questi libri ma poi gente che ma non mi vede streammare con babba da credito saranno due mesi che io e babba non streamiamo insieme come ti sei ricordata di venire sul mio canale a scrivermi le informazioni il braccio sembra che sia ancora vivo non è vivo però il caldo estivo è incredibile no ragazzi ma io non mi aspetto niente di più sul ragazzino che schifo mi sento male solo a sentirla questa roba cioè non non mi aspetto nulla di più da dei ragazzini perché la media delle persone che scrive sta roba è 11 anni e mezzo quindi ci stava bene però dico qual è stato il ragionamento mentale che ti ha portato a dire adesso vado sul canale di una persona che sul canale di babba non vedo da due mesi e vado a chiederle a che ora inizia sì bobu li ho giocati tutti e tre i primi li puoi trovare sull'archivio io mi devo trasformare perché qui c'è la musica di tensione no clonava non penso che sia quello cioè babba parla parecchie volte anche di daratorn ma non credo che vadano da daratorn a chiedergli a che ora fa live babba credo eh poi non lo so playtime tre ore ma che s quale tre ore ne lo finiamo in cinque minuti a che ora inizia Nico alle 23 alle 23 fino alle 6 lei ha detto che voleva cominciare a fare live notturne quindi praticamente ha deciso che dalle 23 fino alle 6 di mattina lei prova a fare queste live se vanno bene bene se non vanno bene non fa niente ma a che ora fai live allora io faccio le live dalle 18 e 30 alle 19 e 77 tutti i giorni e anche il sabato e la domenica quindi mi raccomando se non vi volete perdere degli aggiornamenti iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina ma ci stanno un sacco di persone qui io non voglio parlare con nessuno come faccio? alle 2 di notte non c'è mai nessuno di interessante a streamare questo è perché non hai trovato gli streamer giusti questo è perché non cerchi sì certo è vero ragazzi alle 19 mi trovate ancora qui domenica mi trovate qui a streamare a quell'ora te l'ho detto anche ieri se non mi sbaglio c'era qualcun altro che ha chiesto Tano no l'altra persona che mi ha chiesto ieri credo mi si chiamasse 77 minuti non sono 60 ma nel mio mondo sono 77 no ieri la persona che è venuta che mi pare si chiamasse tipo Nicoletta qualcosa era venuta a chiedermi sì toccami toccami madonna mia spupami spupami tutta sì sono tua godo assafa maronna Bates moi moi caccia il ferro Bates dove vai dove vai fermo ai 19 un tempo streamavo sul serio è vero Bates caccio cucina subito moi caccio il ferro fermi spingi a farsi toccare ma nei punti giusti ieri era venuta a chiedermi comunque la ragazza era venuta a chiedermi se quando rigiochiamo insieme quindi cioè fin quando vieni a chiedermi quando rigiochi con babba allora figurati io non ti dico niente non va bene però mi sei ma oggi la fa live ma chi mi piace un ufficio informazione ma io non lo so ma poi dopo due mesi perché posso capire sai ogni mercoledì giochiamo insieme allora tu dici ok ma dopo due mesi devo tornare di qua perché devo parlare con Franco credo sì ok devo andare a parlare con Franco sono un ufficio informazione se invece ti chiedo a che ora fa live bellotta vale lo stesso sì e ti posso rispondere lino quando fa la 12 ore a ferragosto lo so pure il bello è che io le cose le so adesso posso leccarmi le ferite speriamo scusi sa che a che ora apre il caffo di sesto calende zero allora tecnicamente dovrebbe aprire alle 16 e 30 però quelli c'hanno il culo pesante tu passa alle 17 in poi perché ci ho parlato con i dipendenti c'hanno il culo molto pesante però va intorno alle 17 Mary White quando fa là è in un bello posto chi sei un sacco di creature strane un tizio che ti esce con l'accetta dobbiamo andare da qui velocemente esci via da questa storia non ti ho mai detto cosa fare e lei chi è scusi tu devi andare all'inferno ma perché 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 questa risposta così cattiva e acida aprono alle 16 e 59 dalle 16 e 59 alle 17 se non ti sali nemmeno un parco un parco scusate vado via aspetta mo vi leggo tutti però prima di leggervi tutti devo astemmare perché se non bestemmio guarda vieni qua vieni qua spanks arrivederci non posso vivere con questi signori allora devo leggere un attimo il messaggio di Nico se non ti sali nemmeno un po' mi scoccio mi metto di sfottere su questo argomento bene che è esattamente quello che voglio ragazzi dove sono ragazzi ma dove sono da dove vengo lei non usava il fucile e infatti è Bates in questo momento però non voglio un maggio perso aspetta mi sono perso l'obiettivo del gioco è scoprire che cosa centriamo con la maledizione di Maxwell che è quella del primo sì Milium ma è un gioco i Clock Tower sono stranissimi sono dei giochi molto particolari però sono i precursori del il cazzo i precursori stavo dicendo sono i precursori dei giochi horror alla fine la prossima volta rispondi come faceva il mio bisnonno e lei lo sa che fa il Papa Roma beh io potrei saperlo che cosa fa il Papa Roma sono passata dalla live ma stavo cercando l'ufficio patenti lei lavora qui posso chiederle a lei certo Goblin che qual è il problema dica sono un vergine nato nel 2004 qualcosa sul futuro allora guarda quello che ti posso dire è che il tuo futuro è molto incerto allora mi raccomando quella operazione con i Bitcoin non 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 la farei non investire lo so che tu avevi intenzione avevi visto lo youtuber che ti diceva ah fai questo fai questa no 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 non la fare perdi solo un sacco di soldi e soprattutto il fatto che Alessia ti abbia scritto andiamo a mangiare insieme non te la dà non te la dà non te la dà lascia stare lascia per cambia vai avanti vai avanti il 2020 sarà l'anno dei viaggi scendo scusate se la muserola si mette sul muso la cazzuola dove va sul muro ok era la porta giusta la prima non ho capito ciao only me buon pomeriggio dice un sacco di cose spiacevoli sui seminaristi ma non si passa di qui per il molizio assolutamente si ho bloccato Alessia grazie prego quando vuoi figurati non sto qua apposta non ho capito devo andare di qua quindi suppongo si suppongo di dover andare di qua ok ciao Mariangela te lo ridico quando ci sei fammi vedere un po' di locks voglio vedere i locks ma è chiuso ho bisogno di qualcosa di lungo e sottile non ridete dai ma io non lo so ma non lo so ma io non lo so ritorniamo a prenderci qualcosa di lungo e sottile va qualcuno di voi ha qualcosa di lungo e sottile che vi vedo nelle mutande purtroppo magari potete fare qualcosa non ho ancora capito cosa fa il VIP su Twitch è un modo per dire questa persona è una persona stupida del mio canale vuoi il VIP Lilium? se vuoi te lo do è un simbolo comunque molte persone molti streamer lo danno anche solo per il il momento diciamo ti premio perché sei stato qui perché hai donato dotzab e compagnia bella io lo do molto random una pistola ma l'ho lasciata lì ma che cosa fai Bates ma questo è un birra ragazzi io non ci posso ragionare con quest'uomo ciao blu scarfo è tutto normale ma non ho un grissino va bene si è uno spiedino non penso che si spazzo spezzo spezzi spezzi anche essere un modo vedi Franci che pure c'è il VIP mi sento VIP anche se non lo sono io lo sono dentro ragazzi poi c'è a certe volte li tolgo a tutti quanti quindi sarebbe una cosa simpatica apprezzerei e io ve lo do poi lo chiedete e io ve lo do ma lo chiedono tutti e io non lo darò più a nessuno Katia si cosa che è successo Lilium e Bobu sono due VIP del canale vedete eh c'è se vi sentite star quindi VIP passate a casa mia che devo fare il brodo madonna santa Tano dopo questa mi sento una persona nuova l'importante è non sentirsi una persona vecchia no non è vero noi vogliamo bene anche i vecchi dove devo lungo e sporco allora fammi vedere qui forse devo trovare qualcosa di lungo e sporco attaccato al muro il coso lungo sta nelle gambe appese eh eh esattamente Silvia quello che dicono un filo esattamente quello che ci serveva vado a che suonare il corriere vai 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 lungo e sporco non ho nulla io non sono vecchio ah certo dicono tutti così dicono tutti così va bene ritorniamo a noi vai Silvia non ti preoccupare abbiamo ancora un'ora voglia di fare noi possiamo praticamente farci una beperonata tu sei vecchia e fiera di esserlo va bene dobbiamo tornare in bagno perché adesso finalmente abbiamo una cosa lunga e sottile questi VIP random mi piacciono eh ma quello è un classico di questo canale questo canale è tutto random allora no fai non dire che poi facciamo figura ho già in tasca dalla vittoria potete scrivere anche quando lasciate modalità solo follower vero anche se non avete il follow è una cosa incredibile assurdo cosa ho preso che chi 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 strana che chiave strana bella bella e qui devo tornare indietro suppongo quindi torniamo indietro come si ritornano ad essere persone normali nel gioco allora devo andare a recuperare di nuovo il mio porta chiavi che ho lasciato infilato in qualche libreria da qualche parte perché ho perso ovviamente la cognizione della mappa e del tempo e dello spazio quando lo recupero lei si ritrasforma in lei stessa e non è più Bates l'armadietto che si taglia con un grissino perché non sono la stessa ma perché qua c'è sempre sta musica di tensione come fa venire sempre un infarto pare che sta per succedere qualcosa di terribile ma io non lo so allora ragazzi dobbiamo andare all'elevatore sto facendo la strada giusta credo a me riscattare il VIP porta sfiga l'avevo riscattato una volta da Bob e tra cazzi vari sono sparito la Twitch per un bel po' evito la prossima volta tu avrai direttamente le chiavi dello streaming così proprio per farti un dispetto un giorno di contatto e ti do direttamente le chiavi dello streaming del canale così tu prendi e streami tu poi vediamo che succede giusto per capire che succede mi piace il random oh no vado 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 credo di dover andare di qui ah si mi piace godere benissimo allora abbiamo un po' di cassetti va questo è normale si va si corre l'importante è che si arrivi anche ti bannano il canale eeeh vabbè bannare le ricordo che ho puntato 7000 per lei ma sono le 15 e 29 abbiamo un'ora e un quarto ha voglia di fare sa ho un sacco di tempo amio io potrei fare benissimo amio comunque ho letteralmente la la nudità che mi serve uomo uomo perla uomo perla dopo il primo amio ho vomitato il caffè mi dispiace ma io volevo entrare in questa stanza no non posso non posso entrarci più voglio entrare in questa stanza posso entrare aveva la Buster Sword quello zombo no quello è Mastwell mister Bates che parla corsivo forza aspetta che tocco caspita il secondo piano è chiuso e niente ragazzi siamo rimasti qui per sempre fatto che Silvia abbia votato no ma non ve preoccupate ragazzi Silvia l'ha fatto per scaramanzia l'ha fatto per regalarvi un po' di punti tranquilli mister Bates che parla corsivo io molo va ah la chiave giusta per disarmarlo vai disarmiamo questo anticrimine ma perché hanno un laboratorio con un sistema anticrimine ho disabilitato l'anticrimine quindi vado via andiamo proviamo no 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 qui come siamo messi male ma disarmiamo sto grì ma sì ma che ce ne importa no no non gli credere Silvia sto andando benone cioè io sono praticamente alla fine cioè ho finito il gioco ma entriamo in queste belle porte mi piacciono sembrano delle porte interessanti credo cosa c'è qui terra sì una chiave mi piace mi piace e va bene dobbiamo andare a riprendere l'amuleto maronna ragazzi dov'era l'amuleto alla fine della live io ho puntato tutto su di lei raga abbiamo finito bella quella statua cosa rappresenta la dualità dell'uomo all'interno del mondo fatto di lussi spuenati in gordigia dove cazzo sto andando sto andando starò andando no sì no è qua dove ha incontrato la tizia vampira e dove era dov'era io chi se lo ricorda hai messo la chiave magnetica sul pannello sì sì Silvia sì sì Silvia abbiamo capito il senso di lasciare l'amuleto in giro è perché è l'unico modo per trasformarsi in baits ragazzi però mi perdete le informazioni base eh 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 dai abbiamo capito che per trasformarci in quest'uomo viola dobbiamo mettere l'amuleto da qualche parte e farci colpire poi quando riprendiamo l'amuleto noi diventiamo persone migliori modo vera di qua o di qua io non so da dove vengo ma sarà di qua perché che cioè funziona solo a distanza perché credo che lei sia impossessata di default cioè Alissa è impossessata di default va bene quando però ha l'amuleto con lei l'amuleto la protegge quindi dall'impossessitudine e quindi non è più impossessata mentre quando non ce l'ha e lo perde se viene presa dall'ansia facciamoci coccolare di nuovo da quel dottore facciamo che no quando viene presa dall'ansia si fa prevalere il signore il signore che è il nostro pastore dove devo andare non ho capito vabbè prima di andare avanti va di qua comunque erano in una libreria l'abbiamo recuperato ma sembra sta musica di tensione ci sono ho capito dove sei vai silvia un uomo viola che possiede il corpo di una reale scommetto che suona diverso in fase di stesura la disperazione è quello che veramente serve è l'unica cosa che mi sta portando avanti però il terzo mi hanno detto che è bellissimo cioè il clock tower 3 hanno detto che è un un bacio su la capocchia avariana di qua ok si v'entra si mia madre è sparita qualcuno la trovi chi te l'ha detto lino si no estintore e valla a trovare qui dentro non si nomina Terminal 81 vi banno allora via di qua posso entrare in uno di questi cosi no eh mai mai nella vita probabilmente per il terzo non sarò più sabbata al canale ma no Silvia ma come già mi abbandoni dai cercate una donna nuda ma non è nuda è vestita subito a pensare ma si ma io devo fare il giro del mondo per poter picchiare un dottore cioè ma è mai normale è normale questa concezione che io devo fare il giro del mondo per picchiare il mondo il giro del mondo per picchiare un essere zombie e ma mo andiamo e sarà così ogni volta che dolore almeno una volta al giorno devo nominarlo non possiamo dimenticare quello scempio ma io vorrei dimenticarlo invece perché non eccoci qua tanto adesso arriviamo fin laggiù e ci tornerà di nuovo il dottore sexy l'abbiamo avuto te la regaliamo noi no come no Silvia ma dai ma stiamo andando una favola cioè non non stai nemmeno sudando più di tanto colpito e lo zombie scompare però fino ad adesso la molestia in bagno penso che sia stata il momento più alto di questo gioco mo ricordami dove devo andare di qua sicuramente perché una porta c'è io ho un problema quando ci sono varie porte chiudo va bene ciao Michele ok di qua Silvia sta per partire in Messina moleste che abbiamo subito solo noi nel mondo come ci sono i vicini che martellano altri giorni tu martellai i vicini allora siamo entrati a dand ok finalmente sì oh un'altra chiave bella santo devo tornare indietro di nuovo ma posso almeno guardarmi in giro per vedere se c'è della non seguite i consigli di Katia del vicinato ah no salva salvo 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 sembra tutto normale salvo 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 bravi che mi avete detto grissino bruciato ma no ma è un signore fatto di plastica sì che sperimenti stavano facendo ma ancora che tu lo chiedi ma questa sta ma perché cretina cioè in pratica è una maratoneta per la strada che fa è vero eh ciao bufalo buon poveriggio allora dobbiamo ritornare di nuovo all'ascensore quindi andiamo a fare di nuovo tutta la scarpinata rimasta indietro si è persa gli episodi precedenti oh no ho toccato il pene eh ragazzi eh poteva succedere a chiunque è capitato proprio a me l'ho toccato mi è piaciuto questo non so dirvelo però che dobbiamo fare è capitato è capitato è capitato poteva essere altrimenti non poteva essere altrimenti ma devo soltanto ricapire dove ero non vi preoccupate sto parlando di cose mie state tranquilli oh forse ci siamo stati eh va bene forse siamo arrivati dove dovevamo arrivare succede si è caduta nell'imbuto come non ragazzi ho toccato il pene è capitato ma non è che uno può ah posso salire adesso al secondo piano perché ho disattivato il sistema di criminalità organizzata no quindi posso salire andiamo let's go vai ok quanto silenzio in questo ascensore non c'è nemmeno una musica vabbè maranna santi peppi ti prego entrami ok entra va bene ce l'ho ce l'ho si però dai ma all'uscita ma all'uscita ma a me che mi aspettano vicino all'ascensore ma tutto a posto scende anche lei desidera la canzoncina simpatica ce la metterei aspetta non ti preoccupare ho quello che fa per noi no la morte fa fa 90 ragazzi dov'era il il coso questo è sceso dov'era il l'estintore maronna non era qui si era qui grazie al cielo ok usiamo l'estintore fanno gli appostamenti e mortacci loro ma quanti carabinieri ci stanno in questo laboratorio fa 90 la lavatrice fa bene infatti la morte non è mai morta tiè sbang fuori uno glielo sbattiamo in testa ma si ormai sono una distruttrice di zombie a furia di spaccare questa roba in testa siamo del rischio di fa maronna io mo devo fare questo c'è tutte sopra ci sta un estintore cioè la troviamo lo troviamo un estintore sopra no ma come no Silvia cioè io devo fisicamente ogni volta scendere giù per picchiare questi vabbè ma io mo salvo e mi nasconderò da qualche altra parte non può esserci solo l'estintore no ma non può esserci solo l'estintore ragazzi ma non ci credo non ci credo è falsa questa informazione che mi state dando quindi non vi preoccupate vabbè andiamo di qua andiamo diventi un pugno diventi un estintore io mi fido di Silvia ma anch'io mi fido di Silvia però non mi voglio fidare così tanto un po' di meno sentite io troverò un altro posto dove fare questa cosa sono sicura sono sicura troverò un altro posto dove nascondermi ti prego lo troverò ciao faruzzin ti prego ma un armadietto figlia mia no eeeh arrivederci mi sparo di qua vai sembra un buon metodo ciao Simbina mi sembra un buon metodo ok eeeh qui no qui no qui 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 si benissimo no io non ci voglio credere ma che è la riunione di contro maronna ma qua sta una luce spenta accendi la luce Marisa usa il cadavere per picchiare l'altro cadavere usa un cadavere per picchiare l'altro cadavere io 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 non ho più parole nelle lacrime non ho più parole nelle lacrime che lentezza questo interruttore eh raga la prego mi lasci vivere no tutto per non accettare l'estintore ma Silvia ma non può essere l'unico modo ma io sono convinta che ci siano altri modi dai sono stronzi ma non fino a questo punto ballavano si sono dei ballerini di pop dance la gita di un panda rosso ma lasciatelo stare questo è questo bullismo su sui medici cioè seriamente l'unico modo per combattere questi esseri infami è fare uno switch di 123 quanto è vero picco allora andiamo di qua since devo velocizzare per forza se no altrimenti veramente mi viene la gonorrea ok ritorniamo a noi che bello il silenzio ciao Zanna male per dio male di chi anno è il gioco Nico è del periodo PS1 sarà 98 credo i zombie non hanno un cervello ma il cuore ce l'hanno ancora non me ne frega bongato e masterato anche lo zombie ha preso l'ascensore sono bravi eh sono bravi ragazzi hanno delle skills possiamo finalmente andare dove dobbiamo andare oppure no proviamo proviamoci del 1995 tu pensa cioè che dobbiamo fare allora questa è la porta da cui vengo o è la porta da cui non vengo che io non ho capito bene è la porta da cui vengo perché sono pirla ero giovanissima nel 1995 anche io anche a me la volta è venuta la candida giocando a pokemon blu troppo lento eh anche del 300 avanti cristo eh all'età della mia ragazza lei però è invecchiata meglio beh spero non sia invecchiata quanto come questi zombie allora c'è un cazzo che posso usare per curarmi I wonder what this machine does ah chissà che cosa fa questa macchina ma di se non è in modo un momento che è ma da c'è s'affanculo scappa io non posso più farcela non posso più farcela io mi no di qui caschia io adesso mi spoglio mi spoglio dei miei vestiti e faccio in modo che i miei vestiti non investano più via giù fuori scus dai apri questa porta infame li brucio li buco i miei vestiti tenga dottoressa si prenda questo secondo te con cosa si uccide questo zombie con la mia pazienza che non è mai troppa allora ritorniamo su e che salvo fa non abbiamo fatto niente perché la rivoluzione per i vestiti perché fa caldo bozzi fa molto caldo to andiamo ritorniamo di qua benissimo adesso non dovrebbe esserci più nessuno giusto che altrimenti veramente guarda ok allora guardiamo il computer to si alissa 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 dai ti prego un accendino bello bello non ci vivrei però bello bello magari mi do fuoco dai adesso esce esce dallo schermo del pc ma io lo spero che mi ammazzi lui vabbè andiamo via to mo suppongo che dovete andare dall'altro lato perché se andate a sinistra andiamo a destra cioè avete capito se andate a destra andiamo a sinistra ok benissimo senta signore lei mi è esuperato la minchia no ho sbagliato porta no ho sbagliato porta se non è vero non ho sbagliato porta porta giusta porta giusta ritorniamo di qua via prendiamo l'ascensore torniamo giù usciamo giù andiamo a sinistra si ok oh guarda ma sta roba è assurda allucinante però ragazzi ufficialmente abbiamo un'ora di tempo abbiamo un'ora di tempo per finire un gioco che si finisce tra dieci secondi praticamente abbiamo finito signor agente veramente dottoressa castani frinzi dei miei coglioni abbiamo un'ora di tempo per finire un gioco che è già finito già finito è finito chi deve leggere cosa devo leggere tanto sta giocando non legge che è successo ah ok pensavo che parlaste di me quanto parlate di me allora devo andare di qua no non sì no sì non ho capito dove andando aspetta è una frase che già senti no raga è finito non vi preoccupate vi fidate di me non vi preoccupate ce l'abbiamo in mano tanto fai parte pure tu dei vecchi tranquilli eh ma pare che tu non ma l'omino bianco che voleva rubarti i cadaveri non faceva più paura ho solo urla di disperazione per paura di non riuscire a finire ma guarda un po' entrambe le cose allora io sono in questa stanza di qua mi hanno salvato i bisè io non ho salvato ancora nulla allora vi fidate di yukali? sì spero che questa sia la risposta spero che questa ragazzi è partito un sondaggio è partito un sondaggio se ve la sentite di votare potete votare se non ve la sentite vi capisco lo stesso cosa c'è qui? non ho capito cos'è questo è una chiave? c'è qualcosa attaccato al computer è congelato lì ma so benissimo come scongelarlo con un goloso accendino e ho preso la cosa benissimo è già un ottimo inizio no? oggi non me lo sballe l'amplifon è rotto il computer guarda lì che laboratorio terribile i traditori del regime saranno costretti a giocarsi tutto termine all'81 con i comandi invertiti e un crescito vivo esatto vedi che ti chiamano di là non è vero non mi chiamano di là Bellotto sta in chiamata di lavoro fa veramente freddo ma un condizionatore rotto può fare veramente così tanto freddo ma chi te lo dice che è ru ma perché lei è diventata un tecnico dei condizionatori scuda quando è diventata un tecnico dei condizionatori ma vabbè allora ritorniamo a noi però ma annusa i mobili e lei è così che riesce a percepire le cose non è vero gli sto sussurrando Bellotta ti voglio Bellotta fammi tuo non credo proprio nel dubbio userei un istintore ma su di me però Alice cioè io lo uso su di me tra poco allora capito? spero abbiate capito quindi andiamo allora devo andare credo a sinistra vincono l'amicizia la fiducia e lo sport sempre e comunque e l'altra è già ma chi sono i nuovi del già mais? se avete le palle cosa che non avete perché fatele scacare se avete le palle ditemelo io non ti credo tu mi ami io non ti credo tu mi ami va bene io non ti credo tu mi ami io non ti credo tu mi ami io non ti credo tu mi ami allora devo andare a sinistra non ti credo tu mi ami ti amo ma non poto già mai ma non è vero non è vero non è vero allora se proviamo a usare questa chiave abbiamo tutti votato per il sì poi infatti io sempre il comune oh si è aperta ma tu pensa non pensavo mi ami tu ma non è corrisposto non fa niente ti amo per tutti e due che bevi? guarda bufalo vodka spero credo cioè purtroppo no però vorrei tanto fosse voto c'è massimo ragazzi ma è massimo facciamo che io non lo guardo faccio finta che non c'è chissà se sono gli risultati degli esperimenti chissà cos'è la celebrazione tossina no basta con questa roba acqua di arg che silenzio imbarazzante sì ma io vorrei capire ma lui che sta in pausa pranzo in pausa cattiveria perché lui non si muove? mi inquieta il fatto che non si muova lo ignori così? ragazzi ma questo mi voleva ammazzare è tutto normale io non lo so non c'è nulla qui ma perché stai in castigo infatti stai in castigo mi scusi buon uomo dovevi nascere è vero signore è vero non dovevi nascere vero sempre vero no mi sbolli mi sbolli l'attenzione ma marianna cosa devo serio? sal salustio oh cristio lo so cosa devo fare per tramortirlo avrei voluto non saperlo avrei voluto non saperlo l'hai disturbato mentre faceva le sue cose private ho capito ma era lì da un quarto d'ora cioè volevo sapere se stava bene mi sembrava un po' strano io userei un estintore così a naso ma sai che me c'è ma cosa gli è passato nel cervello per dire sì mettiamo solo un estintore vieni capo vieni tento estintore raga io ho bisogno di curarmi però cioè io ho bisogno di curarmi come faccio eccala e torniamo di nuovo dove si è sempre stati bene Silvia ma non è che sai dove stanno dei medichist che io sono rossa controllo ti prego usciamo da questa stanza salva comunque sì sì mo salvo mo salvo anche perché sono rossa quindi cioè sto per morire letteralmente oh tre 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 prendi l'estintore e diventi Rambo ma solo con l'estintore diciamo patto Soros se hai un estintore in mano puoi avere puoi avere i poteri di coso lì di patriota patriottico senti se io apro questi sono chiusi però io ho un desk key storage key no no non questo hai i poteri di patriota però devi portarti l'estintore lo puoi fare soltanto con l'estintore non ci sono stronzoni non mi serve l'estintore benissimo è tutto normale in questi armadietti bene l'estintore estingue no mi fa dire i tre treprentini che è un casino il mio cervello si blocca allora questo è dove abbiamo trovato il signore che si stava facendo le seghe va bene quindi andiamo di qua spero ci sia un qualcosa ti prego io non ho più non ho l'età io non ho l'età non trovo medikit io io non ho più l'età la cosa bella è che non mi ricordo dove avevamo trovato gli altri medikit perché me lo son dimenticato di nuovo ho toccato di nuovo il pene eh ragazzi è finita per noi è finita ritorniamo giù riprendiamo la strada seconda stella a destra questo è il cammino no l'estintore lo so ragazzi che è l'estintore mi serve il medikit devo capire dov'è un medikit perché se non trovo un medikit è un po' un problemikit perché son rossa quindi finché non facciamo questa cosa è un po' un casino allora vediamo un attimo se lo riusciamo a trovare qui nei dintorni no però qui c'è ci sta l'ascensore non mi ricordo nemmeno dove siamo c'è al piano di sotto io non mi ricordo nemmeno dove siamo allora saliamo su dai prendiamo il trapezio andiamo di qua che ormai non mi ricordo nemmeno più dove sto andando so soltanto che sto andando da qualche parte di sotto e non ci so non so dove sono cosa devo analizzare qui computers non so che cosa faccia questa macchina guarda ti prego allora io non so che cosa ci fai tu in questo gioco alissa una chiave una chiave per delle manette perché non c'è niente qui perché ho una chiave per delle manette da quando facciamo i giochi eroici non ho capito vabbè ritorniamo indietro ciao Jaden e ciao GGS da quando facciamo i giochi eroici scusatemi Alessandra è solo la ragazza immagine del gioco ah aspetta però qui c'era un pips questa credo che sia la storage I thought it would open I thought it would open ma adesso la open I thought it would open non è vero questa? vogliamo aprire questa? no lei apre da sola tutto perca io mi tolgo i vestiti e gli do fuoco io adesso mi tolgo i vestiti e gli do fuoco percazze sbaglio sempre maronna mia veramente la cosa più difficile dell'universo scendiamo giù di nuovo io non ce la posso farcela speedrun again si torna sempre dove si speedrun bene tiè becca di questo ragazzi ma in bagno non c'era un medikit vero? cioè in bagno non c'era un medikit che voi vi ricordiate quello là delle donne non l'abbiamo mai trovato giusto vorrei capire qua se magari sai lo possiamo trovare da qualche c'è solo il maniaco no magari negli armadietti non c'è nulla sul tavolo della stanza con le gambe appese io non mi ricordo però la sparo questa donna bene allora devo andare dove devo andare ragazzi mi serve un medikit c'era il maniaco e qualcosa nel lavandino che era la tessera però qui dentro non c'era un medikit quindi no veramente questa è la via verso la soluzione questa è la via verso la soluzione qui potremmo trovare un medikit ma qua ci sta pure l'infermiera noi con questa infermiera non ci abbiamo mai parlato cioè non gli abbiamo mai rivolto la parola che per carità per me va bene non rivolgerle la parola e chi le vuole parlare a questa no questa è la stanza con i cosi proviamo ad andare di qua ah era qui grazie al cielo ti prego curati grazie a dio ok siamo di nuovo in carreggiata siamo di nuovo in carreggiata gameplay di gioco due ore uccisione zombie troppe ore prossimo zombie fatti fare una pompa ma di benzina salvamo che sei viva sì ma vorrei salire prima che se no qua 112 anni ok ci siamo ciao marcus ok fin qua ci siamo mo salverei benissimo transalcens arrencens salvo qua perfetto allora eravamo andati a destra eravamo andati a sinistra dove eravamo andati dove siamo noi dove siamo andati per andare non mi ricordo dove abbiamo preso le chiavi delle manette non era qui però non era qui che abbiamo preso le chiavi delle manette quindi dove eravamo andati saremmo andati di qua no perché questa è la stanza delle stanze quindi non era questo lato ma era l'altro lato che devo fare anche una mappa mentale di tutto questo posto perché è enorme c'è un casino allora siamo andati da questo lato dell'altro lato quindi era di qua vabbè ci siamo spero sì credo sia proprio questa la porta yes godo quando c'è sentimento c'è sempre anche del godimento oh finalmente possiamo accendere le luci hop avevamo salvato ma nel dubbio saliamo gita lago duria lago duro benissimo benissimo siamo di nuovo in un altro laboratoschio tutto normale lei continua a parlare di normalità in un posto dove sta vedendo le peggio cose si muove sai cos'è che si muove poi anche più la mia pazienza liquido giallo non è nemmeno la cosa peggiore che abbiamo visto a mia madre chi è? padre padre alissa cosa ci fai qui? banette che ti ha fatto questo? lo sbascero è papà è il piscio sì lo sbascero papà ti sposto io ma io che ti hanno fatto? sei in pericolo vai al laboratorio dell'ufficiale dottore e tu? io arrivo tra un minuto non ti preoccupare di me papà ma a una delle infermine zombe voleva fare sozzeria il padre tu dici? dici che era uno sporco? non lo so vabbè andiamo di qua prima però papà io penso che questo sia primo non ti preoccuparti beh il padre mica è un genio però non vedo niente di nuovo accendiamo quanto manca prima della fine? sono le 16 e 07 abbiamo ancora un sacco di tempo una card rossa stiamo collezionando un sacco di keycard però non so a che cosa dobbiamo farcene cioè non so dove dove ragazzi ma vi ricordate punto vi ricordate se scamma finisce in tempo ma non scammo ce la facciamo in tempo vi ricordate dove abbiamo preso l'accendino lo stesso padre che regala statuette maledette lasciatelo in manette anche questo è vero è lui che ha fatto succedere lo sfacelo ho puntato sul cavallo sbagliato ma ragazzi ma come voi ma io che vi tengo a fare cioè ma vi rendete conto dobbiamo tornare nella stanza dove abbiamo trovato l'accendino credo se finisce in scam faccio protesta ma qua protesta ciao freddi bentornos per un anno senti ci sentiamo stasera quando sei lì papà quando sei libero fammi sapere aspetta yes salvo papà che sta a fare questo le fotografie padre alissa dentro oh no sta arrivando maxwell alissa sbrigati entra ma padre starò bene è successo un fatto tra me e questo ma parliamo e si calma ma di che parli papà senti alissa vai a fartemi zio philip zio philip papà sta qua fuori alissa adesso so il segreto della maledizione di maxwell maxwell lei è sempre sturdita è tutta colpa di tuo padre la maledizione era solo un rumore papà papà si patata è fuori no no zio zio mannaggia questi mobigliano questioni no ragazzi questi mobigliano questioni questi mobigliano questioni si scannano e finisce a tarantelle napoletane sono libero dalle venti allora potremmo fare la conversazione su discord però io la farò da un ristorante perché sono fuori a cena se per te va bene senti gli signori che mi servono i piatti io la faccio perché il problema è che ti direi domani ma domani non ho tempo perché sono dei miei quindi per forza oggi la dobbiamo fare dalle venti ti chiamo dal ristorante altrimenti quando torno però sarà tipo mezzanotte quindi non lo so litigio in famiglia allora mo picchio tutti vediamo un po' qua che devo fare chi devo toccare chi devo menare le discussioni più importanti altrimenti oggi a che ora stacchi se tutto va bene alle 16 e 44 se tutto va male il telefono chiamo casa no ma andrà tutto bene drawer dress dress kiss sì sì una green card perfetto quindi adesso io non mi vado a fare minimamente i fatti di quelli che stanno facendo lì fuori perché loro stanno facendo fatti tra grandi alle 16 e 45 se va male ti preoccupa l'Ilium ti sei persa veramente il drama più intenso di questo gioco solo il drama più intenso va bene vediamo qui dove devo andare qui toc 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 tic toc può trasferirsi in America l'elevatore non risponde ma se uso la kickers swims tic toc 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 easy essendo in europeo nordico basic mangio per le 18 e 30 quindi magari ce la facciamo comunque se ti devi registrare come fai un ristorante ah beh registro un ah vero e se no me la dici a voce e mi lasci poi un messaggio vocale sul telegram in cui dici do il mio permesso freddi non so come non so come fare se riusciamo a sentirci un po' prima chiama l'ascensore ma non mi risponde l'elevatore allora facciamo così appena finisco io ti mando un messaggio tu fai con calma quando hai tempo mi fai sapere però io adesso devo bestemmiare quindi un attimo un attimo va bene datemi un secondo perché nel caso io bestemmio e poi ci sono ah non è vero non ci sono cosa la card blu Katia ah la card blu cazzo è vero lui con calma lì ciao DJ King Benven mannaggia dai ma io come faccio adesso lui aspetta ma non sta aspettando io come vado io adesso però lo tricco ma come come morirà secondo me non c'è più e invece c'era la christian card c'era e come ma se papà papà come faccio da quanto non salvi da pochissimo però ho dei dubbi devo portarmi le persone di là ma la carta della dell'amicizia scusi eh arrivo sto utilizzando la key cards la key cards ti prego amore devi andare la porta è chiusa ma la key cards ce l'ho io questo gioco l'odio 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 cioè veramente comprerò dieci copie solo per dargli fuoco conviene ricaricare e a questo punto ti direi di sì ma can't use can't use can't use can't use anymore non posso vabbè sentite tanto quello sta là ci sarà un cioè è mai possibile che ci sia uno uno spruzzatore non credo impossibile ci sia un solo spruzzatore in tutto un laboratorio laboratori sono conosciuti per essere tempestati di spruzzatori quindi e invece ma dai ma non ci può essere un solo ti prego dimmi che c'è un oggetto qualcosa c'è no acqua rapa ho visto qualcosa che si muoveva qui eh però sono morta non è vero potrei non esserlo potrei no non era norma io voglio cessare di vivere ok qui bravissima non ti troverà mai si sa gli zombie sono notoriamente stupidi è bravo e infatti ma come ancora un'oretta no Silvia ma è impossibile che manchi ancora un'oretta manca un'oretta perché le persone non sanno giocare nel gameplay che hai visto ma non manca un'oretta no no ragazzi non vi preoccupate va bene ok balanna io io che devo fare più cosa devo fare più cioè cosa devo fare più mi nascondo tesoro perché non ti nascondi cosa c'è abbiamo voglia di morire Alissa ah abbiamo questi stinti omicidi cioè suicidi vogliamo prendere proprio la nostra vita e buttarla ai 420 ma sì dai diamola via la vita che bello tanto ci piace morire ma dove cazzo mi nascondo Alissa dove dove vuoi che mi metta donna inutile dove sarò è chiusa salvatore tatti vai Alissa ti prego ti prego Alissa ti prego Alissa sei tutti noi forza Alissa non mollare solo tu ce la puoi fare triggerati dai la signora se ne va grazie al cielo posso tornare indietro senza passare un diamine come sono veloci questi zombie e sono zombie veloci mo vorrei capire signora però lei mi ha anche rotto i coglioni eh ma allora me lo fa apposta ma la signora me lo fa apposta ciao Mitsuki eh ho capito ma non entra no invece entra però la signora me lo fa apposta la prego signora e niente mi ha già visto quindi non posso più utilizzare il trick della visione vabbè vaga del no impossibile impossibile ragazzi io avrò il sopravvenso il sopravvenso Benson allora andiamo di qua prima di andare di qua facciamo una roba alternativa allora eh dai ci sarà qualcosa qui questo questo no niente niente zero proprio non vogliamo vivere no niente vita solo morte per noi abbiamo deciso proprio che abbiamo vogliamo morire va bene va bene Alissa va bene va bene capisco capisco lo so Silvia però non c'è vedi c'era questo modo per nascondersi a quanto pare però non è abbastanza ciao Tullio vorrei capire potremmo andare di qua non so veramente me li devo portare fino allì giù se no l'unica cosa che posso fare è questa c'è veramente questa è la mia vita ma la cosa bella è che io vorrei anche salire un'altra volta alle no Alissa devi passare di qui e invece lei non va e invece lei non va quella porta in fondo al corridoio ma non credo che possa essere fattibile quella porta credo che sia chiusa quindi non credo sembra scena alla scupitura sì ma ma serio io io provo a fare di nuovo così ci vorrei capire se è veramente è l'unica alternativa possibile riportarli lì perché il tizio non c'è più cioè il medico non c'è il medichesso non c'è più c'è solo l'infermiera santo è Dio grazie a Gesù grazie a Gesù Gesù ti ama Gesù ti vuole bene allora respiriamo posso infilare qualcosa da qualche parte ok infiliamoci l'amuleto però come faccio io già c'ho tutto rotto perché corrono così piano perché sono zombie si sa gli zombie sono notoriamente piano dei pianisti ok torniamo di qua mi chiedo cosa sia lei sta facendo questo da tutta la vita proprio da tutta la vita dimmi che c'è è pieno di liquido giallo ma questo che iniettava del piscio nelle persone cioè non ho capito che poi gli zombie non dovrebbero volere il cervello con la lista che ce fanno è quello che mi chiedo anche io basta signora ci ha boffato tre quarti e dai che cristo signora mi lasci vivere e niente raga mi sa che la nostra unica soluzione sia aprire questa porta che poi non ho nemmeno armi quindi con Bates non posso nemmeno fare nulla cioè non è che dici vabbè utilizzo Bates che quanto meno posso sparare no blue keycard let's go no tesoro abbiamo già provato questa roba utilizza la blue keycard benissimo adesso andiamo via ok benissimo usciamo raga l'amuleto l'ho già messo allora keycard rossa dai benissimo andiamo mi devo liberare di questa cioè l'unica l'unica cosa che posso fare quindi vai di lunga gira il corridoio papà tanto non ci sei vero ok papà non c'è quando papà non c'è le alisse ballano prendiamo l'ascensore scendiamo al piano di sotto usciamo fuori però quantomeno ce lo leviamo di torno signora finalmente sì allora ragazzi ma lo zombie è magico lo zombie è magico vai pure a prendere un medikit sì infatti volevo prendere quello volevo andare a recuperare il medikit soltanto che ah è di qua di qua ok vai subito prendi il medikit andiamo via da questa stanza io velocizzo ste parti perché se no veramente facciamo natale pirulì di qua benissimo ora saliamo su e c'è un altro zombie e io veramente smetto di esistere a destra perché c'era la stanza di papà benissimo ok apriamo di qui e ci siamo siamo tornati ragazzi è tutto a posto se scendo di nuovo giù e c'è un altro zombie io brucio questo gioco ok aperto dai è il telepass è vero c'è il telepass ragazzi ma sono letteralmente dei medici quindi non hanno frontiere dove vai ma dio delle città e delle immensità prendi pure l'amuleto no perché l'amuleto è giù l'abbiamo posato poc'anzi quindi allora andiamo dove dobbiamo andare non è assolutamente normale no ma infatti non è normale vabbè allora sentite io bestemmio io bestemmio posso bestemmiare avvocato posso bestemmiare avvocato io mi permette cioè posso posso un poco un poco poco ma proprio una punta giusto per golosità posso ma questa non apre la porta ah santo e dio grazie al cielo mi apre la porta dove cazzo è è perché quello di prima che non abbiamo ammazzato a mampella passa dai forza lissa di qua brava lissa ti prego torniamo di nuovo no ho sbagliato strada ok io me lo ricorderò per sempre questo ascensore comunque ciao buongonauta me lo ricorderò per sempre questo ascensore ragazzi ce l'avrò sempre nei miei ricordi me lo sognerò questa notte mi sognerò viaggi in ascensore salite discese del fisting anale dai è ok ora ora non dovrebbero esserci più problemi poi ti lamenti di Terminal 81 dai ma questo era iniziato bene non era iniziato così male cioè nel senso era un gioco comunque che si prospettava puzzolente però ciao Peter Pan però non così tanto cioè dai era decente allora poi veramente quest'ultimo capitolo è stato l'inferno io non ho capito che cosa hanno pensato gli sviluppatori hanno pensato di drogarsi di farsi delle pippe hanno tirato ma leggermente lungo è un eufemismo ma perché non è lungo cioè il punto è che non è lungo è che tu devi fare avanti e indietro continuamente che lo fai cinque volte io ti dico anche va bene ma tutto il tempo no se troviamo qualcun altro io salvo se troviamo qualcun altro vado a cercare gli sviluppatori a casa non hanno pensato su questo sono d'accordo andiamo oh pronto apri la porta oh santo Dio andiamo a vedere di qua perché salve capo non dovrebbe esserci lei qui dentro aspetta forse ho sbagliato stanza scusate ho sbagliato stanza preferivo l'uomo al forbice sì ma pure io piuttosto che gli zombie di me ma non è nemmeno la trama la trama può essere anche a parte che lei è veramente il personaggio che credo mi stia più sul cazzo di tutto l'intero universo tralasciando questo ah Shannon you despicable puttana si mi ha rovinato la mia vita ma chi ti ha fatto niente la tua maledizione mi perseguita non ti mi perdonerò mai Shannon ma chi ti conosce vai ballami shanson muori necessa no vaffanculo stronza what the hell aia che dolore grazie al cielo eravamo baits grazie al cielo eravamo baits mamma santa mamma santa grazie al cielo eravamo baits perché altrimenti ci ricordavamo questo momento per il resto delle nostre vite che cuore questa abbiamo una mannaia bella mi potrebbe servire forse come baits per colpire per quotere le persone però ci sta va bene ritorniamo indietro così andiamo a recuperare altri cadaveri il master baits sì il bay baits era di qui dove abbiamo messo il nostro amuleto ragazzi prima di tutto però sventriamo questo cadavere così per supporto mi piace mi piace ah era un cadavere con una chiave di un condominio di morti bello prendiamo l'amuleto però intanto torniamo di nuovo al corridoio principale ciao l'herigan non so cosa ho appena visto guarda l'herigan ce lo stiamo chiedendo tutti in sala da un bel po' di tempo ma bentornados per 25 mesi come stai? mi sembra un posto ovvio dove trovare una chiave eh sì ragazzi ma chi è che non mette le chiavi scusatemi all'interno di di un corpo di un cadavere tanto è già morto mica gli fai del male va bene andiamo a parlare di nuovo con questo signore bello prosperoso capo sto passando i guai io capo non so che sta succedendo non ho propendizi stai ancora guardando in giro signor Bowman ho imparato una cosa Maxwell era un bello genio e ne è adesso scomparso Maxwell quel nome Maxwell ma lei si chiede ancora di chi sia io me ne vado vuoi venire? guardi per quanto vorrei vivamente dire di sì ciao Ibi vorrei vivamente dire di sì va bene prenditi cura di te anche lei signor Bowman portagliavi lo dovevo prendere già morto eh ragazzi avete sbagliato a seguire il tutorial su youtube vabbè andiamo quindi credo qui signor Bowman arrivederci perché no perché non è questo il nostro finale questo è il nostro finale non finiremo mai abbiamo finito ok salgo le scale va bene andiamo andiamo dovremmo essere in un mortorio mortorio no no dove vai alissa devi stare ferma ti prego ma c'è philips zio philip alissa alissa la maledizione alen hail mi ha fatto proprio fezzo manco ma non è lo zio non è il cugino ha fregato pure a me anche un fezzo zio philip che mi ha fatto papà alissa alissa la statua muore zio ti prego non era la maledizione era tutto un piano stata corta vuole pure a te come siamo messi male per dio male va bene quindi zio che facciamo c'è una chiave va bene allora devo trovare mio padre andiamo a cercare papà papà fa un culo lo zio troppe chiavi vabbè il signore non faccia il nostalgico il zio philip è uno è una brutta persona camma va se questo è il finale la corsa dell'estintore per dieci volte è la boss fight lo zio è morto una chiave tanto ormai cioè ragazzi lei non ha letteralmente cioè il punto è che lei l'hanno resa un imbecille cioè quantomeno avessi un personaggio che ha un minimo di senno e sa essere un personaggio allora direi anche vabbè dai ok invece no lei è pure imbecille ciao super ali buon pomeriggio allora apriamo questa porta subito via via ok grazie al cielo si apre allora salve siamo esattamente dove siamo tornati all'inizio però qui serviva la scheda verde e adesso spris ce l'abbiamo no ragazzi no ragazzi no 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 ragazzi no 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 ragazzi no 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 la porta è chiusa benissimo allora lissima bravissima aspetta mettiti qui mettiti qui alissa 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 dove vai io con questa non ci parlo più io con questa non ci parlo più niente raga dobbiamo risalire un'altra volta sopra picchialo con il maniglino dobbiamo risalire un'altra volta sopra non possiamo fare altrimenti non possiamo fare altrimenti dobbiamo a salire su katia il tuo cervello sta per sciogliersi però tu sei più forte del tuo cervello chi ha mai seguito il cervello d'altronde io sono sempre stata una persona di petto cosa fai a me piace più il petto che il cervello vai saliamo su ce la possiamo fare sì io credo in te abbiamo passato così tanti avventure che adesso il solo pensiero di essere qui vicino alla fine mi turba ci meritiamo 20 minuti in più ma serio ci meritiamo 30 minuti in più però io devo parlare anche con la madonna la madonna devo parlare con la madonna assolutamente perché io le devo chiedere perché nella mia vita potevo fare tante cose ho deciso di giocare clock tower 2 perché mi sembrava un'idea bizzarra quella di recuperare la serie per quale motivo addio punti pepsi no ragazzi voglio 5 minuti di recupero 5 minuti di recupero 5 minuti di recupero me li merito quale scam nessuno scam io me li merito me li merito per essere la persona che sono sempre stata anche di più direi sì 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 ti serve un'ora mica 5 minuti datemi 5 minuti in più anche perché io dopo devo assolutamente parlare con con freddi cioè quindi proprio io non posso fare tardi fisicamente non posso fare tardi proprio fisicamente perché stasera non ci sono usa sta scheda dai a zia oddio a perché non vede quindi non vede la madonna mia io questa ragazza veramente la in culo io veramente allora dai usa la scheda a zia ok andiamo di qua 30 minuti le schippate di velocizzate devi stare zitto devi stare zitto da te esigo silenzio va bene fingi un problema e apri il finale da youtube no io allora cinque minuti me li merito green kicks green kiss allora va bene andiamo entriamo in questa cosa mamma santa allora raga abbiamo finito comunque cioè abbiamo letteralmente finito la statua ma perché è qui pensavo di averla bruciata invece c'è tuo zio che ti ha detto fino a mo ma bella mia ma perché uno non utilizzi il cervello e invece fai soltanto la samanta che non sei altro allora raga allora c'è un problema adesso lo sapete che c'è un problema il problema è il seguente il problema è il seguente non c'è niente qui il problema è che noi adesso dobbiamo cercare eh ci sta un sacco di tossina celebrava non la pigliassina tossina fra poco veramente c'è un problema il problema è che ho provato uno shotgun che male non fa mi piace moltissimo come situazione e sono molto contenta per far sta sfilata qui mi pare che non potevamo andare perché era chiusa devo diventare bates devo diventare bates quindi mi serve un termostato mi serve un termostato ragazzi senza termostato non posso diventare bates quindi dobbiamo andarci a cercare niente non c'è niente qua qua non c'è niente via hai ucciso tutti guarda manco solo io poi abbiamo fatto pacco completo pare che qui c'era un medicist no c'è manco un medicist se riesci a finirlo in tempo ti regaliamo vai toccami ok allora senti non andare di là vabbè vai di là fai quello che vuoi fai quello che vuoi bates fai quello che vuoi dovevi finire puntuale all'aghi lo faccio vorrei chi è puntuale vieni qui prendi lo shaskas sparo c'è nà ciao leggenda allora io ho necessito necessito i 10 minuti in più una ronna rosto no 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 sul piano strada di qua no non era di qua che venivo mi sto perdendo mi sto perdendo mi sto perdendo minuti di recupero era il fischio d'inizio allora sono con un bass benissimo allora non ho capito non ho capito la porta è chiusa ah no è chiusa perché mi serve la chiave ce l'ho non ho capito che cosa dice la guida però cioè non ho capito cosa dice la guida ti prego non farmi perdere i punti no è che error 404 no è non ho capito non sto capendo siamo verdura non siamo mai verdura forse devo guardare la cosa anche con lui la stessa stature capisco non ho capito non ho capito perché dice cambiati devi fare questo per prendere un filter in the game che cazzo è un filter cos'è il filter in the game che cazzo è il filter qualcuno mi dica cos'è un filter un fisting mi sa non è che mi è uscita la pubblicità in francese non lo so beh signore carpentiere va bene va bene va bene il coq uè che stai a fa il mezzo a fa l'inventiva della maledizione di maxwell quindi l'hai scoperto non mi sorprende però anche se lo sai non me ne frega più è tutto finito adesso è finito non credo proprio forse dovresti andare prima tu giù per vedere la conclusione no ma che vado devo andare giù ho detto che io devo andare giù e che faco credo di sì suppongo di sì però io che cazzo ne so scusi andiamo andiamo di qua ciao michael tutto bene tu come stai stiamo per bestemmiare però no gg domani non ci sono sabato e domenica no prima facevo il sabato facevo la live su youtube ma abbiamo finito anche friend friends preparate il fucile come esci la besta ha fatto tutto lui ma proprio a caso ci ha fatto tutto lui proprio a caso che così impreciso nel prendere gli oggetti sparring ok sparring uno let's go avanter ci sono altre porter no dal lunedì al verdi yes va bene ah ok devo andarmi a prendere a cambiarmi d'abito ragazzi in realtà perché devo essere marisa devo cambiarmi d'abito daie che ci cambiamo d'abito ah lui se n'è andato ovviamente perché questi hanno l'abilità di sparire da un momento all'altro sì laurito sì 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 ma poi fra l'altro nei piedi l'ho messo l'amuleto ma vabbè non siamo qui per farci queste domande siamo qui per darci delle risposte e li avremo marisa scendi pronto ci sono ciao tano allora ciao donna allora ci siamo ci siamo però non ti preoccupare non vi preoccupate beh vediamo un po qui che cosa c'è ci sono soltanto dei cadavers sì oh no di nuovo questa non ti farò scappare tu mori qua oh hai rotto le coglioni però anche tu ma che ho fatto io Shannon oh no ti devi fermare come ti permette di chiamarmi per nome hai mai avuto il diritto di chiamarmi per nome mi hai abbandonato quando ero solo piccolina ma è un'altra figlia è un'altra figlia sì cosa è questo dramma in silenzio se devi ammazzare qualcuno ammazza me perché ti vuoi prendere vendetta con Alissa magari hai ragione ma ci deve essere un'altra strada questo quanto ha trombato troppo per quanto mi riguarda Shannon che sa mangiare oddio ma si è autodistrutta no Shannon ma chi era? mia figlia lo sapevo lo sapevo lo sapevo eeeh che questo ha trombicchiato sì 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 va bene capo ma che bello il poliziotto è qui non si sa come detectives ho finito di investigare ho trovato il carpo di tetto non sanno ci sono un sacco di zombie quindi ci dovremmo andare stai cercando di scappare guarda che gli zombie ci ammazzano quindi cerchiamo di andarcene via non posso ma sei sicura? non posso scappare così e lasciare le cose in questo modo va bene non possiamo non possiamo proprio siamo sicuri che non possiamo io secondo me potrei ha lanciato sta bomba e poi è sparito come i migliori ragazzi letteralmente come i migliori ci sarà un medichist? un tool è stato posizionato qui ma che vuol dire? ma quanto vago? ma io non lo so vabbè andiamo avanti ok andiamo avanti ma è scema dall'inizio alla fine io penso che fra poco vomito penso che adesso vomito io urlo no io penso che io penso che adesso potrei potrei veramente pensare a una fine tragica a una fine tragica veramente una fine molto tragica per me e tutta la mia generazione alissa entra dannazione ma serio? oh santi nomi santo testosterone va bene va bene ci siamo non vi preoccupate ho tutto sotto controllo voglio piangere voglio piangere sali donno la ok teschera rossa e poi devo usare sempre le keycard ogni volta ma almeno non mi farò usare le keycard le ho già usate dove stava l'estintore? troppo lontano per i miei gusti allora ma vedi se io devo fare questo giro dell'amor ragazzi no ma questo cioè io veramente mi dovrei abbonare fino alle 17 cioè mi dovete abbonare fino alle 17 poi non vi preoccupate mo che finiamo facciamo una discussione e vi convinco io però me lo dovete abbonare cioè io me lo merito io me lo merito io non non ho veramente non ho veramente io me lo merito io me lo merito per la quantità di sofferenza tenga signora dai per la quantità di sofferenza cioè una sofferenza tale no 17 e 15 no perché io devo necessariamente staccare alle 17 cioè non ho più non ho altre scappatoie non ho altre scappatoie devo staccare alle 17 non c'è nulla da fare perché devo andarmene via come dobbiamo fare una discussione nel senso che vi devo convincere in qualche modo a capire che io sto soffrendo c'è gente che l'ha visto due volte lo so Silvia però io ti avevo detto guarda la guida leggila a mia discolpa non ti ho mai detto guardati il gameplay non era colpa mia io non sapevo Arianna ok di qua verde verde qui ok ok ci siamo ritorniamo di qua poi ritorniamo di qua se scendo giù e c'è un altro zombie cosa probabilissima ciao GGS a lunedì grazie mille per la compagnia se io vado lì e c'è un altro zombie cosa probabilissima che succederà tra poco io non parlo più e mi do a Lippica mi do a Claudio Lippica io ti voglio bene per averlo giocato io non mi voglio così bene per averlo giocato tu te li chiami ma pare che non lo conosco ma pare che non lo conosco questo gioco di merda cioè pare che non lo conosco io adesso veramente ma che è che è questo trauma cos'è questo drama ho aperto un portone si chiude una porta si apre un portone ah Maswells invidiavo il brillante di buona famiglia a morire tutti tu sei impazzito parlare non farà nessuna differenza mi sono dimenticato che ero io a farti diventare pazzo papà lei papà Alissa tu non sei mia figlia come non sono sua figlia sei la figlia di Giorgio Massimo ero geloso di quest'uomo ma quindi per farlo cadere ti ho disseppellita dalla tomba di Maxwell papà io non capisco qui ero morta pure eri la bambina maledetta della famiglia Maxwell la figlia con l'artere un po' cattivo c'è ero l'uomo spugna l'uomo sforbice che erano amare tutti quanti a Massimo ma io ti amavo come se fossi stata la mia stessa veglia e mi diceva strappalagrime strappa ti ho mai presa come un oggetto per fare del male a qualcuno quindi io ho infettato la statua con dei batteri per farlo impazzire padre papà addio Alissa vattene via questo cosa sta per esplodere padre non padre in realtà come mordi cosa è morto padre devono morire tutti quanti oh e senti ci hai abbuffato la wallera non sei il mio vero padre abbassati bello quanto duro meanwhile l'altra figlia morta vero chissà chi ha preso l'intelligenza cos'è questa fila del morto ragazzi io non lo so abbiamo finito però abbiamo finito sì abbiamo finito amici questo è il finale starò facendo vedere come la disseppellisce credo che quindi lei era la 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 era la forbice la donna forbice cioè era l'uomo forbice donna forbice ah il mio padre non ci credeva alla maledizione adesso mi vaghi mo parliamo nella bara c'era un estintore come fa lei ad essere il forbicione allora io ho ricordi molto vaghi in realtà della trama di clock tower però ho come l'impressione che in realtà i figli maledetti fossero due c'era l'uomo forbice e poi l'altro bambino che era un feto e magari è quello è tutta colpa mia sono tutti morti se morivo io era meglio concordo ma lui sta parlando da un orecchio vabbè devo andarmi a occupare di quegli zombie e non sarà facile cosa ridi cosa ridi cosa ridi cosa ridi sono morti tutti ciao rosella sono morti tutti cosa cazzo ridi cosa ridi cosa ridi amici 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 discorso sì amici tutti ce l'abbiamo fatta ma con un quarto d'ora di ritardo ma alla fine cos'è un quarto d'ora se non una piacevole un piacevole segno di interpunzione fra le parole yucali a vento cos'è cos'è io dovresti pagare il no solo per Silvia siete tutti adesso io vi dico per me per me la senti la scarica di dopamina uff madonna mia finita la tortura dell'estintore 15 minuti sono pari a zero ma amici non so se quindi darvi per buono il sì o darvi per buono il no e vienimi a trovare a casa che ti offro un caffè celtico quando vuoi va bene io direi che però dato che Silvia ha scommesso per il no per darle la scocca finale io darei sì soltanto per dare lo schiaffo morale a Silvia che ha scommesso no su di me perché non ci credeva abbastanza Silvia ce l'ho fatta va bene Katia no io infatti non la vorrei pagare solo perché ha votato contro di me ma come ma scusa paghiamo il forse quindi io direi che noi faremo decidere al destino cosa pagare solo perché ero certa finissi ahhh 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 faremo decidere al destino cosa fare non rotona ma il mio iphone spegni tutto con testa paghiamo i sì con croce paghiamo i no il destino no eh ragazzi ragazzi era solo scaramanzia con testa paghiamo il sì con croce paghiamo il no vai full cam e aspetta che però sta finendo il titolo di goda qui c'è il titolo di goda amici Siri testa o croce è uscito croce è uscito il no eh non ho fatto bene a cambiare username per protesta ma non ho fatto nulla soldi buttati ma mica è colpa mia mica è colpa mia ti dinunzio brogli elettorale ma quali brogli amici è stato così deciso però è anche giusto è anche giusto perché da una parte io avevo detto alle 16 e 44 e alle 16 e 44 non è stato ma ci eravamo vicini abbiamo lottato abbiamo combattuto ci siamo voluti bene 182 mila punti vinti madonna Silvia però magari non ti pavoneggiare mantieni un profilo basso Silvia mantieni un profilo basso per i prossimi 35 anni in questa chat altrimenti ti vengono a prendere con i forconi è stato giusto così è giusto che sia stata fatta la volontà del testa o croce ma amici abbiamo anche finito un pericoloso viaggio all'interno di questo meraviglioso mondo ma è arrivato anche il momento per noi di lasciarci io devo andare a fare questa chiamata con Freddy altrimenti veramente mi mandano a fare in culo ciao Simon buon pomeriggio che ci consigli di farvi una bella scampagnata ragazzi una bella scampagnata ma io posso capire che cosa succede per farvi vedere pure che abbiamo avuto il rank più alto